C'è stato anche un po' di ricambi, un po' di gente andrà via, però è arrivata altra gente che stanno qui a Lucea. Cominciamo questo pomeriggio con queste due testimonianze sull'azione del diavolo e sull'esorcismo. Padre Aldo che ci parlerà nella lotta con il maligno di Santa Gemma Gagani, che è la fondatrice del ramo femminile della congregazione passionista. E poi a seguire ci sarà Padre Mario Iroldi che è già più tra noi, che è il esorcista delegato dal Vescovo della nostra diocesi, con altri due ospiti che ci illustreranno poi la pratica dell'esorcismo più in modo analitico. Quindi do subito la parola a Padre Aldo. Buon pomeriggio, spero che abbiate mangiato bene. Sono contento. Quando venne Toscani a propormi questo incontro, ci fermavamo a parlare del più o del meno su questo Micael, chi come Dio, e allora essendo io passionistico, ma sai che tu conosci Santa Gemma che ha avuto uno scontro fisico col demonio, no? Allora l'idea di dire al mattino parla Don Silvio che ci ha fatto una panoramica teologico-biblica eccezionale, molto bella, no? E ha centrato proprio il tema su il fatto che Satana è un angelo ribelle, questo l'ha ripetuto tant'e volte. E quindi, però uno potrebbe, le cose visti teologicamente potrebbe dire, ma beh, però io non ho mai incontrato io per strada o sto angelo ribelle, no? A parte la domanda di qualcuno, ma esiste l'angelo custode e anche il diavolo custode di stamattina, no? Allora bisogna rivolgersi ai santi, ai santi, e io sento passionista, ma penso anche gli altri, no? Ma i santi veramente sono importantissimi nella Chiesa, non solo, secondo me non tanto perché sono santi, ma perché nella loro santità in qualche misura incarna la parola di Dio della Bibbia, no? Facciamo un esempio che non c'entra, ne è già e ma io. Come faremo noi a capire meglio che cosa è la povertà se non avessimo l'esempio di San Francesco che parla di Madonna povertà? Allora quando io commento, anche io prete, non commento, beati i poveri, anche in spirito, non posso non pensare, guarda che Francesco d'Assisi ha proprio incandato la beatitudine della povertà, perfetta letizia, diceva lui, però sappiamo in che modo e con quante sofferenze e quante perseguizioni. Quindi i santi incarnano non tutta la parola di Dio, un pezzetto della parola di Dio. Parlo adesso per me, San Paolo della Croce, che è quella statua adorata che c'è nell'angolo, incarna il cosiddetto verbum crucis, San Paolo della Croce che dice, ma io sono venuto a parlarvi mica con discorsi troppo alti, ma di Cristo crocifesso, perché la parola della croce non è evacuetur crucis Christi, che non sia resa vana la croce di Cristo. Lui era diventato proprio un annunciatore, un predicatore, ma più che un evangelizzatore del suo tempo, proprio sulla passione. Quindi abbiamo la parola incarnata nei santi. Ecco, allora, a parlare io ho pensato a Santa Gemma Galgani, perché è proprio una che, come il demonio, ha avuto uno scontro fisico proprio, fisico, da ricevere percorsi, da ricevere insulti, da ricevere battute, da ricevere... E poi abbiamo i testimoni, perché voi sapete, la chiesa è molto seria, prima di fare uno santo, c'è fior di procezzi, sia quelli diocesani, sia quelli apostolici, con tanto di testimoni, possibilmente oculari o auricolari, che hanno detto, guardate che cosa è andata così, così, così. Ora Gemma, che era finita ospite di una casa di Luca Giannini, la casa si chiamava Giannini, aveva una donna che lei chiamava zia, anche se non era sua zia, perché era un po' come la sua seconda mamma, lei aveva perso la mamma da bambina. Il padre, direttore spirituale, che era un passionista padre Germano, continuava a dire a questa zia, tienila d'occhio, scrivimi le lettere, cosa fa, come si comporta, cosa dice, che cosa manifesta. E quella, come un serguccio, se la teneva sempre vicino per i lavori domestici, eccetera, e controllava continuamente cosa diceva, cosa faceva, cosa faceva, cose cose cose, no? E allora uno dice, o uno si è inventato tutto, oppure dice, ma qui c'è qualcosa. Poi racconta delle cose così straordinarie, così, che nemmeno una fantasia non si sarebbe immaginata così straordinarie, nello stesso tempo reali, concrete, reali. Per cui Germano, è una donna eccezionale, una santa mistica, ce n'è uno ogni cent'anni, insomma, per dire. Lei ha avuto a che fare con questo mondo di cui ci parlava Don Silvio stamattina, il mondo angelico, cioè, come parliamo noi? Lei parlava con l'angelo custode, e poi nella sua semplicità e limpidezza, perché era una donna semplice e limpida, qui c'è un ritratto ma esserpiato, però, sulla copertina di uno dei suoi ultimi libri, scritto, questo qui, molto bello, da una pronipote di casa Giannini, il nonno era stato in braccio a Santa Gemma, perché faceva la babysitter, la bambinaia, l'ultimo nato, è nato tre anni prima che morisse lei, e lui lo tenete in braccio, era il nonno, bisnonno forse, sì bisnonno, di chi ha scritto questo libro che è tuttora vivente, questa, si chiama anche lei Gemma Giannini, ed è un insegnante di Gemma Giannini, lucchese, insegna lettere, presidente del Centro Cultura dell'Università Cattolica della Società Lucca, nato nella grande famiglia Giannini, e pronipote del Cavalier Matteo, che aveva ospitato a suo tempo Gemma in casa sua. Quindi lei, molte volte, scrive dicendo, a casa mia, mio padre e mio nonno mi dicevano Gemma, diceva questo e si comportava così, quindi c'è anche una tradizia orale, se incredibile, che risale a fare, però vediamo noi. Allora, c'è questo scontro fisico, un testo che consiglio, vedo che ci guidano si libe, e magari mi piacerebbe, questo è veramente uno studio stupendo, è di Cornelio Fabio, Cornelio Fabio è uno dei pensatori italiani cattolici, morto, saranno dieci anni, stanno facendo, pubblicando l'opera omnia. Lui era innamorato di Gemma, ha scritto questo libro che ha il titolo, dice, testimone del soprannaturale, testimone fisico del soprannaturale. e ha impiegato vent'anni a scrivere quel libro, vent'anni, perché ha fatto delle ricerche sui documenti, sulle testimonianze incredibili, e allora volevo fare appunto vedere un filmato che come vedete viene da YouTube, viene da Rete4, è del 2009, quindi non è proprio a fuoco tutto, però non so, dura 7-8 minuti, e dove si vede veramente una testimonianza che ci è rimasta del demoniaco nella vita di Santa Gemma, prima vi descrivi il fatto così capite la faccenda. Il padre passionista, il padre Germano, che viveva quasi sempre a Roma, invece lei era a Lucca, si incontrava una volta nel Pagno, due o tre volte all'anno, e usavano molto la corrispondenza. Fra l'altro, sapete, siccome è carino, la gente lo sa, Santa Gemma usava l'angelo custode come postino, perché non aveva i soldi la poverissima, per affrancare la lettera, poi scriveva la lettera, poi diceva la zia Giannini, adesso come faccio? Lei faceva qualcosa, andava qui a me, andava qui a me, la prendeva, andava su nella sua camera, prima il cassetto del comò, dentro la lettera, clac, clac, poi diceva, andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, mentre su Giova a mangiare, Gemma dice la zia, è partita, ma come è partita? La lettera non c'è qui, e quindi ha detto a Pagno e Germano, ma lei dove le ricevevo le lettere? Qualche volta direttamente sulla scrivania, e me la trovavo lì, qualche volta sul davanzato, alla fine, ma insomma, io una volta ho detto a Gesù, nella mia stupidità mentale, signore però, un angelo costumo, mi farebbe come? Risposta, c'hai già internet, e usa la mail, che va bene quella? E va bene quella? Quindi ecco, per dire che confidenza aveva, con l'angelo custode, però, come ha detto bene Don Silvio, dall'altra parte c'era demoniaco, l'angelo di qui custode, e il diavolo custode, ribelle di là, e questa era un'anima per Mitte, bella, Candi, la Gemma, una bella donna, è stata chiesta di mi sposa, quando l'ho chiesta di mi sposa, si è arrabbiata, io sono di Gesù, io sono di Gesù, non ne voglio, giustamente, non ne sapevo, è una bella linea, fine, insomma, la dicono che era una bella ragazza, è morta a 24 anni, di tubercolosi, a Lucca, tre, quattro dati per il quadrato, nasce nel 1878 nei pressi di Lucca, il papà è farmacista, apre la farmacia nella città di Lucca, vivono, la famiglia mettono al mondo otto figli, sono morti tutti abbastanza in giovane età, non tutti, ma, e la mamma la perde quando ha quattro anni, e la cosa gli è costata molto, perché poi lo dirà, ho perso la mamma, eccetera, il papà va avanti, però, bravo farmacista, non un esperto in affari, cade in, cade in disgrazie, in fallimento economico, deve vendere tutto, eccetera, e la famiglia, che era di un cito medio-bordiglese, buono, va proprio in misera, una misera dal punto che, in casa Galgani, non c'è più nemmeno la minestra, la sera da mangiare, sta ragazza, nel fin dello sviluppo, aveva 18-19 anni, ha frequentato le scuole della città, in particolare le sue rezzitine, che sono le urlate dello Spirito Santo, fondate dalla beata Elena Guerra, che è proprio una che voleva, che le 11-13 facesse un'enciclica sullo Spirito Santo, quando si stavolta accennava lo Spirito Santo, eccetera, e quindi, lei è cresciuta di lì, intelligente, seria, giudicato un po' anche altezzosa, quasi un po' scontrosetta, lo dice lei, io sono super, ma lo dice perché, allora, poi le germano, gli dice, quando lei incontra, fra l'altro, un particolare, lei aveva delle estasi, e quando andava in estasi, lei diceva mai estasi, diceva, visto vado fuori di testa, diceva così, lei perdeva il contatto con l'esterno, però lei, che parlava con Gesù, come parliamo tra due persone, lei le diceva ad alta voce, le diceva le parole e le diceva, allora quelli che erano vicini, che erano seduti, trascrivevano le parole che lei diceva, loro non sentivano cosa diceva Gesù, ma sentivano cosa diceva Gemma, allora pare che, una delle prime volte che padre Germano l'incontri, naturalmente è un vero padre di diritti, io ti ho spiegato a dire, un momento, qui può essere tutta suggestione, ma vieni, vieni, vieni che c'è Gemma che è in estasi, e sentono che Gemma discute con Gesù, dicendo, adesso sintetizzo, lo devi salvare il Signore, è frutto del tuo sangue, quel peccatore, no, lo devi salvare Gesù, perché è frutto del tuo sangue, tu sei morto, e dicono che ha fatto anche il nome, il tal d'età, finisce l'estasi, loro scappano via prima, dopo un quarto d'ora suona alla porta, ah, fra l'altro, lei raccontava i peccati, anche alcuni peccati, che quello lì aveva fatto, lo diceva Gemma, i testi non lo dicono, perché ero peccato, suonano alla porta, il padre Germano, c'è un tal, il piccolo, c'entra alla porta, arrivo, lei va di Germano, mi voglio confessare, si confessa, è esattamente l'uomo di cui parlava Gemma, a tal punto che Germano, lo racconta a lui, quando ha finito la confessione, Germano, gli ha ricordato alcuni peccati, che lui non si è ricordato, che lui aveva sentito la Santa Germma, ma cosa incredibile, allora Germano ha detto, no, qui c'è Ic Digitus Dei Esti, qui c'è un, è impossibile che sia tutto a caso, quello del genere, qualcosa di così, ecco, vedi, allora Germano dice, Gemma, fate la sintetizia, devi scrivere la tua autobiografia, e Gemma obbediente, con che ero obbediente, si mette a scrivere l'autobiografia, la comincia nel 1902, la comincia, credo, in febbraio, la termina in maggio, maggio, e Germano era a Roma, quindi la ritira, il manoscritto, scritto a mano, lo vedremo, la ritira, la tira, questa tira, è già partito, fermalo, piaccia, la ritira, e la mette via in un cassetto, eccetera, e capita il fenomeno della sparizione, però questa volta non è l'angelo custode, è Satana che glielo porta via, vedremo, il padre Germano fa degli esorcismi a distanza, e il quaderno è sparito agli inizi di luglio, è stato restituito ancora nel cassetto il 27 luglio, questo quaderno autentico, è conservato dai padri passionisti sotto sigilo, sotto tecca a Roma, adesso lo vedremo, restituito però si vedono le impronte demoniache sulla carta, con questo particolare, che le impronte e le bruciature, non hanno bruciato le parole, si riesce ancora a leggere le parole come la scritta Gemma, però ce l'impronta la vedremo, vedremo il postulatore che taglia il sigilo, e tiriamo fuori questo quaderno che è autentico, viene tenuto là perché ormai è stato riprodotto in tutte le biografie, e quindi poi sentiremo un comito che fanno, su questa presenza del demoniaco, in Santa Gemma Gagani, poi Massimo leggo una mezza paginetta di Cornelio Fabro, e se basta così, se no spieghiamo le luci, Cornelio Fabro, Cornelio Fabro è un filosofo, un sacerdote filosofo italiano, molto bravo, ecco possiamo far partire, si sente? di Santa Gemma, quello che il demonio ha tentato di bruciare, vedrete anche nel servizio, una rarissima fotografia, delle imbronte, delle zampe, del diavolo, nella stanza di Santa Gemma Gagani, una fotografia che è stata pubblicata recentemente sul libro, il link, con un amico il professor Carlo Gabrielli Rossi, attenzione, stiamo per aprire il diario di Santa Gemma, questo è il diario di Santa Gemma, Santa Gemma Gagani, e questo dito, in questo contenitore, in metà, anche il retro, è l'originale, ora rinnoviamo i sigilli, questa è la copertina autentica, con la dedica di Santa Gemma, il padre Gervano Muoto, a volte si trovano una sorta di specie di graffiature, di una sorta di confessione generale, a salita e tentata dal demonio, Gemma si rivolge alla insericoglia di vita, ma il diavolo ritorna più volte, gli appare sempre più di frequente, e Gemma dice di sentirsi come bruciare, scrive a padre Gemma, mi sento a sali stanica, solo dico, che il diavolo ci si è messo per rovinare, il diavolo ha scadratto, ma con me, ci si è messo con tutta la forza, Gemma lotta con il demore, resiste, non respinge, prega con grande deluzione, quasi irradita, Gesù le appare e la convolta, scrive ancora Gemma nel suo diario, una notte dormivo tranquillamente, e bene il demonio con una tentazione un po' sudica, lontai per più di umore, regalati, semi di croce, e con una sola invocazione, alla immacolata concezione, rimase nero, ed esso arrabbiato, voleva vendicarsi, avrebbe voluto dargli un colpo addosso, ma siccome gli fu proiettivo, non poter farlo, che gli rimaneva da farlo, un dispetto voleva farlo, gridò, guerra al babbo tuo, un po' scritto ai miei dimani, un giorno il demonio, arrabbiato con Gemma, perché la tentava molto sulla castità, e lei, per rimanere ad educare la Madonna, come gli avevo con sempre insegnato il padre Germano, lui arrabbiato, disse, guerra a te, guerra al babbo tuo, questo è nelle mie mani, e non l'avrai più, e se lo portò via. effettivamente, il diario di Gemma, sparisce misteriosamente, e quando non viene a sapere, padre Germano, comincia a recitare le biviere, del rituale dell'esercito, e infatti, l'autobiografia era stata reportata nel cassetto, e nonostante, tutto il fatto, che non si potesse leggere. La diabolica sparizione del diario di Gemma, il suo misterioso ritrovamento, con tutte le bruciature e le rinchiate, è forse l'episodio più clamoroso, della sua lotta con il manino. Gemma ha raccontato che il diavolo, le appariva ora sotto la forma di un mostro, ora di camera più di tutto. In casa Giannini, a Bucca, sul pavimento di Cotto, impresse come col fuoco, sono state trovate le infronte di zampe con cinque dita, come li stiamo documentando, con queste rarissime fotografie. Poi è inviata la Ligia dei Marchi, per questo bellissimo permesso, voglio chiedere a Don Zercole una parola conclusiva su questa grande fatta. e poi, mentre andavo a questo filmato, ho chiesto a Maria Rita Parsi, lei è venuta con un libro di Santa Gemma Galgani, e rapidamente guardavo lo sguardo, ho dato uno sguardo, a me sembra che questa ragazza abbia un messaggio straordinario, dico Santa Gemma Galgani, non ho detto a me, abbia un messaggio straordinario per la gente del nostro tempo, insomma, questo sangue, oggi c'è tanto sangue che viene sparso inutilmente, violentemente, e si parla di un sangue che redime, che dà gioia, che dà pace, si parla di una lotta contro il demonio che non dà tregua, ma alla fine c'è tanta pace, perché Dio li avvicina. Le ultime parole di questo libro sono queste, uomini moderni, miserie moderne, ritornate alla devozione, alla passione di Cristo, rifugiatevi nelle sue piaghe, chissà che non sia un messaggio ad accogliere per ritrovare la pace. Grazie. Grazie Don Giovanni. Ecco, finito. Ecco, era solo un pezzo, come vedete, di 24 del 2009, quando c'era questo programma, si chiamava Miracoli. con molto armi. L'ho trovato su YouTube, ho detto, io lo faccio vedere, e così c'è proprio una presenza del demoniaco. Semplicemente due, tre righe ancora per spiegare bene, poi dopo la mia parte, finita perché è introduttirci a Padre Mario, che ha lottato anche lui col diavolo, chissà cosa ci racconta. è Padre Don Silvio, che è teologo. Coniglio Fabro, testimone del soprannaturale, in una paginetta dice, sembra che anche a Gemma, anche Gemma alcune volte, come accade ad altri servi di Dio, abbia per divina permissione dovuto subire proprio ossessioni o possessioni diaboliche, le quali però mai intaccavano il fondo della sua anima e l'esercizio della sua libertà che rimase sempre uniti a Dio. Questo è importantissimo. Satana può toccarci un po' psicologicamente e psichicamente, ma la nostra libertà. Sono guai, non ce ne liberiamo più. E lui lo dice, dice, no Gemma ha lottato, ma ha sempre conservato le sue facoltà di discernimento e di lotta, eccetera. Infatti, nella lettera decima il confessore scrive che durante una tentazione del diavolo dissi tanti spropositi, ma io non li volevo dire, mi venivano detti. Notate la passività con cui subiva l'azione del demone. In quelle pietose condizioni il diavolo le faceva fare atti da ossessa. Si gettava in terra, si avventava, sulle persone, esatta, se queste le presentavano qualche oggetto di devozione, sputava addosso al crocifisso, lei che è stata abbracciata dal crocifisso, e all'immagine di Maria. Nella stessa lettera leggiamo ancora che mentre in uno di questi accessi la signora Cecilia, cioè questa zia che la custodiva notte dormivano nella stessa camera, e un passionista pregavano per lei, io mi sentivo dal diavolo mordere dentro, mi davano il crocifisso, ma non potevo prenderlo. E narrata la tentazione del bel giovane sopraindicato, aggiungi, io in tutte queste cose non ci avrei mai voluto a consentire, ma mi venivano dette certe brutte cose contro il povero Gesù. e poi ancora in ultime righe scherzi di Chiappino, chiamava Chiappino, lui non so, probabilmente una frase lucchese, Chiappino, la mattina prima e dopo la comunione gli accessi così nervosi che mi prendono nella mattinata con scosse per tutto il corpo da far tremare il letto, poi un peso enorme e posato sopra di me da non potermi muovere, e altri scherzucci, scrive lei nella lettera del direttore, diventava allora tanto pesante che occorrevano più persone per sollevarla, lei che era una ragazza di 23-24 anni, magra, mangiava pochissimo, in uno di questi accessi era presente il già nominato padre provinciale e il passionista e Gemma, bisogna ricordare che i passionisti quando hanno il vestito nero portavano una volta una corona pendente pendeva giù sulla veste nera, la corona del rosario, il nominato padre provinciale, Gemma gli afferrò la corona del rosario facendola in vari pezzi, cioè subiva anche azioni demoniache, ma alle volte proprio pesanti, gridavano, e loro capivano che era un'ossessione, ossessione, però lo dice Cornelio Fabro è un grande filosofo e anche teologo, e lui dice, la domanda che si pone sempre nel libro, soprattutto in certi capitoli, ma è possibile che Dio si serva del demonio per condurre sulla via della certità certe anni? È un mistero, come faccia? Perché l'ha detto anche Don Silvio, una permissione e fra l'altro fa crescere nella pubblica quindi una cosa eccezionale anche nella storia della mistica cristiana e cattolica che poi anche Padre Pio avrete sentito Padre Pio ha avuto scontri fisici con il demonio, insomma, c'è proprio da pregare, come diceva Don Silvio, libera non amarlo, è meglio non scontrarsi col diavolo perché facciamo delle brutte cose, eccetera, ecco, è un'introduzione a quello che poi divina per esperienza e per scienza personale Padre Mario esorcista e poi Don Silvio che dovrà finire credo la parte iniziata questa mattina. Ecco, ricordatevi Santa Gemma quando andate a Lucca visita alla chiesa di Santa Gemma dove c'è un astero di monache passioniste che è dove ha conservato i resti ossei della sua persona questa Santa stigmatizzata prima di Padre Pio lei è morta nel 1904 1903 e Padre Pio riceve le stigmate nel 1918 e Padre Pio leggeva le lettere di Gemma e poi quando andavano quelli di Lucca a trovarlo Padre Pio diceva ma cosa venite da me? ma avete già la Santa chiusura è stata beatificata nel 1933 e canonizzata nel 1940 da Pio decimo secondo non si vi permettono soltanto una domanda perché molti se la pongono ma non è che fosse un po' isterica Gemma è facile questo anche Padre Pio allora io ho riportato poche righe poche righe della risposta che ha dato il cardinale Beato Schuster quando Beato Schuster era abate giù a San Paolo fuori le mura il Papa prima della beatificazione più decimo primo chiese il parere di Schuster su varie quesiti c'era questio e tra le varie questio per vedere se si poteva dichiarare Beata Gemma ad un altro momento c'è questo quesito la serva di Dio non fuella isterica risposta del cardinale Schuster conosciamo bene i segni diagnostici di temperamenti isterici bugiardi volubili egoisti facilmente sensuali egocentrici finti facilmente eccitabili una parola deboli e ripiegato su loro medesimo Gemma Galgani tutta la sua vita diede continue e costante prove di qualità precisamente opposte alle noti che distinguono i temperamenti isterici è la che nelle sue lettere appare di una limpidezza cristallina nulla più abborrisce che la finzione l'inganno e nelle sue relazioni con il direttore spirituale benefattori parenti è continuamente preoccupato da per il loro quale riteneva fermamente essere una povera creatura chiede continuamente lume per sé per i suoi direttori la Galgani nel suo cammino ascensionale verso la santità e lo stato di completa immolazione fu costante nonostante tutti gli artifici e le servizie dei demoni tutte le contraddizioni e le critiche degli uomini è stata giudicata anche stupidella scennetta perché non era appariscente era molto riservata nelle sue uomini nonostante le sue stesse continue atroci sofferenze la sua eroica virtù non conobbe alti e bassi tregue e riprese per i rifervori che si succedono a stati di debolezza Gemma fu sempre fervorosa né mai altro desiderò e cercò che non il suo sposo virginale il legno della croce quindi Gemma lui dice si è comportato esattamente a rovescio dei tipi veramente giudicati un po' isterici eccitabili volubili soprattutto finte di impostori Gemma era lì e quando ha ricevuto l'estima pensava andava da qualcuna dopo dopo la cominciava a nascondere ma guarda che cosa mi ha fatto Gesù guarda che cosa mi ha fatto perché lei pensava che anche gli altri Gesù faceva così anche gli altri quando parlava con l'angelo lei dice ma il tuo angelo perché lei pensava che anche gli altri parlavano con l'angelo mica solo lei tanto era limpida incredibile questa limpidezza di sta ragazza che non sapeva dopo meca stupido dopo ha cominciato a coprirsi le mani e non farsele vedere eccetera tant'è vero che una volta suo fratello dice che un mese di luglio agosto aveva sui guanti allora una volta lei non voleva allora gli ha preso la mano di provviso gli ha tirato su il guanto e vede il segno Gemma andava gridando Gemma è come Gesù croce Cristo Gemma è come Gesù croce il fratello in casa perché lei nascondeva con i guanti i segni dell'estigma eccetera quindi vedete la limpidezza la realtà di questa ragazza è salita veramente dal demonio fino a però dice il cornello ma perché Dio si è servito dal demonio nel cammino sensoriale dice ma a quel livello qui quasi di ossessioni certamente libera nos amalo io devo condare in chiesa quindi continuate che vi riprosi grazie 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 spegniamo 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 posso chiedere una cosa scusa io non riesco a capire il tema della non ci andiamo anche con il tema della fisicità fatta da una creatura che è spirituale ma adesso poi il tema fisicità la lettera come faceva uscire dal cassetto il quaderno dove sta non lo so è una domanda difficile anche per me primo facciamo un altro esempio che potrei condividere e è accettato sicuramente penso che siate d'accordo la bilocazione di padre pio come è possibile ci sono delle realtà preternaturali e Don Silva stamattina ha fatto solo un accenno di tipo però chiaramente fisico le onde radio ci sono e nessuno sa che ci siano di noi dei poteri preternaturali non dico soprannaturali io uso anche preternaturali che noi non conosciamo però ci sono dei medium che riescono a farli ci sono dei sensitivi delle cose ecco per dire come il mondo il mondo il quaderno è una cosa fisica la lettera è una cosa fisica io capisco come dice le onde non è una cosa fisica ma il quaderno dove sarà andato a finire nel frattempo dove è sparito la lettera che è a casa pensiamo c'è un problema di forze contundenti fisiche ho capito dice due realtà fisiche non possono compenetrarsi pare che sia ti confesso a questo punto non sono rispondo se c'è qualcuno fa delle mani che riesce a rispondere io dico forze preternaturali o forze incredibili però noi constatiamo che è avvenuto crediamo a quello che hanno fatto come avvenne è veramente qua leggevo ancora su altri testi che un certo potere concesso da Dio sulle forze della natura Satana ce l'avrete concesso da Dio però non so fino a che punto con il mio far dice ma è possibile perché poi lui ha citato San Paolo tutto concorre al bene di coloro che amano Dio però aspita libero San Paolo perché se dobbiamo passare per quelle trafile lì però questa risposta come facesse la lettera a passare attraverso il legno del cassetto non ti sono rispondi e adesso penso che quando nel credo diciamo visibigno moglie visibigno crediamo in tutta un'altra dimensione la parte di schiere angelica e nel manico e allora la transsostanzazione dell'eucaristia è un fatto che umanamente dal modo di vista naturale il pane resta quello che era prima noi osiamo credere che per un intervento soprannaturale è diventato il corpo di Cristo ed è un fatto che implica la natura no? sì possiamo spegnere allora se spegnere no? qui qui il proiettore sì dove è? sotto 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 ecco il punto dopo tutto quello che avete ascoltato soprattutto stamattina ormai ne sapete una più del diavolo e quindi aggiungerò solo e partirò dalle riflessioni che ho fatto i criteri di discernimento che ho cercato di elaborare attraverso l'esperienza devo dire che per quanto riguarda questo ministero già prima di ricevere questo incarico sia il Vesco Renato Aldo che il Vesco Renato mi mandavano persone con cui fare discernimento sull'opportunità o meno di mandare da qualche esorcista quanto è l'incarico invece dal 27 agosto del 2009 che ho ricevuto questo incarico e voglio dire subito e con gratitudine che mi è dato di avvalorarmi in una collaborazione preziosa dal punto di vista scientifico che è data dal dottor Gagliardi che è qui presente semmai poi credo che possa essere utile interessante sentire qualche approfondimento e vedo che c'è anche Doanni Restuccia e sapete che è direttore del centro antiplagio con una come dire una consapevolezza della realtà di problemi che poi vorrei dire al di là di quello che un po' di spettacolare viene fatto sul demoniaco e quindi parto proprio da questo io credo che forse più ancora che un aspetto un po' curioso un po' spettacolare che viene anche sottolineato fin troppo creando che delle psicosi sia da spettacoli televisivi ma anche insomma da Padre Livio Radio Maria e altri interventi io credo che c'è un primo dato su cui devono essere molto consapevoli e non credo che siamo sufficienti e qui il dottor Gagliardi avrebbe cose da dire in modo documentato e cioè tutta quella galassia di pseudo spiritualità dell'area nuage che sta tingendo un sacco di gente anche intellettualmente preparata e anche i nostri giovani e mi sembra di avvertire e di poter dire Giorgio che sia un po' simile al mondo della droga perché in essa si entra per qualche esperienza un po' limite e poi un po' alla volta ci si può trovare coinvolti in esperienze anche molto più devastanti cioè dallo spiritualismo sincretista oggi è di moda sia un po' buddisti un po' hinduisti un po' cristiani un po' tutto alla spiritismo all'esoterismo e al satanismo che è diffuso con fenomeni paurosi anche vicino a noi nelle nostre zone e a questo riguardo non ricordo più che anno era quando mi ha fatto il convegno di proposta alla diocesi su queste problematiche ad Armeno 2008 mi pare ecco e io mi dirò solo questo perché personalmente ho avuto l'approccio che mi ha lasciato un segno quando per caso fortuito ho avuto l'opportunità di entrare nella sede di Damanhur in Valchiusella e io dirò che sono uscito con un senso di angoscia e non mi meraviglierei se in posti come quelli possa avvenire quello che è avvenuto in certe sette in cui qui mi sono stati degli esiti tragici ecco e quello che mi preoccupa è tutto questo mondo il fatto che il riferimento è ad i guru che in fondo hanno un potere totale sulla psiche e sullo spirito degli adetti e vi dico che vi è gente anche intellettualmente preparata ad esempio da Damanhur sono usciti diversi sindaci delle zone del caravese non mi dilungo sulle impressioni personali insomma i documenti ecco un altro aspetto preoccupante molto diffuso è quello del ricorso a maghi fattucchiere con notevole dispendio finanziario o a sorti leggi lo stesso fenomeno diffuso del tatuaggio sconfina con questi in questo come dire mondo non precisato il ricorso agli amuleti oggi sono commercializzati gli amuleti e questo non tocca più soltanto il popolino che andava dalle medicone dalle maghe dalle pattucchiere ma tocca come dicevo prima anche classi di elite insomma come anche un altro fenomeno preoccupante a mio avviso è quello delle rivelazioni pseudo cristiane con Gagliardi siamo andati una volta a Ro l'assista ad un'assemblea piena di gente così con il solito leggente il prete che compiacente dove si avverte una distorsione spirituale ma oggi c'è il rischio perché se vado più a cercare quello che non ciò che fonda la fede robusta viene in mente spesso quello che dice a questo riguardo quello che dice la seconda lettera a Corinti capitolo 11 versetto 14 Santana si riveste talora da angelo di luce si nasconde sotto sotto false specie di pietà e di devozione un altro aspetto questo l'ho divertito dagli incontri personali e anche in direzione spirituale in certe situazioni estreme il degrado orribile che avviene nel mondo delle comunicazioni sociali oggi trasmesso dai moderni mezzi tecnologici in internet io ho incontrato alcune persone che hanno intrapreso un rapporto affettivo con un partner che poca alla volta si è rivelato coinvolto in giri spaventosi ecco credo che anche qui ci sia un forte strato del demoniaco anche se non sembra che dia segni esterni no dia faccia segni portentosi potremmo aggiungere alla presenza di logge massoniche anche nella nostra zona ma su questo punto Gagliardi è molto documentato e potrebbe poi dirci qualcosa di più preciso ecco quanto agli atteggiamenti e alle interpretazioni diffuse della mentalità comune ecco io fin da quando mi sono trovato a fare il ministero di discernimento prima di quello dell'esorcista del ministero del ministero di esorcista ecco mi sono sempre attenuto a due criteri di discernimento che vedo sono validi sempre validi strutture e direi confrontarsi con quello che chiamerei il negazionismo o il presenzialismo il negazionismo è quello che dice che il maligno non esiste che è un termine mitologico per indicare il problema del male anche nella teologia cattolica ci sono state delle correnti della demitizzazione anche del maligno non occorre personificarlo e si tratta ad affrontare il problema del male e l'altro del presenzialismo insomma in altre parole è quello di venire il diavolo da perduto creando anche delle psicosi o delle inquietudini spirituali e da parte di esorciste devo dirlo perché c'è un po' di tutto anche nel nostro tra noi tra confratelli del nostro stesso ministero ho riscontrato talvolta delle devo dirlo insomma delle conferme affrettate di infatture di malefici di azione del maligno avrei esempi da portare ma non lo faccio semmai dopo se può servire per esemplificare perché sotto ogni considerazione stanno poi esperienze vive o l'uso corrivo di sacramentali sale esorcizzato si usa questa parola acco benedetta olio benedetto ovviamente i sacramentali sono cose buone ma io ritengo come dirò che vengono sempre dopo i sacramenti che metti se corre il rischio di usarli quasi come un sortilegio in l'uplice criterio di discernimento nei confronti del negazionismo del personalismo ecco li ho ho scelto di Cogli tra testimonianze di il primo non di Santi ma quanto al negazionismo e mi sono sempre servito da una parola di uno che non era sospetto di essere un baciapile il poeta Baudelaire il quale diceva che l'astuzia più perniciosa del maligno è quella di far credere che non esiste perché in tal modo lì è più imponerente e qui davvero ci questo nei confronti del negazionismo andiamo a porci seriamente il problema del male l'incidenza nefasta del maligno e soprattutto tornerò sull'argomento su quello che nella solicitù del rei socialis Giovanni Paolo II numero 96 chiamava le strutture di peccato noi oggi abbiamo spaventose strutture di peccato nella realtà del mondo in cui siamo il catechismo della chiesa cattolica numero 309 che ricorda che il problema del male è centrale di tutta la storia della salvezza la storia della salvezza non sarebbe tale se non fosse salvezza da un potere del male dove abbiamo bisogno di essere redenti e ancora il catechismo della chiesa cattolica numero 407 parlando di quel peccato ancestrale originale che è la malattia editaria da cui siamo liberati per la redenzione dice l'ignoranza di questo nel fatto che la creatura umana è ferita è causa di nefasti di esiti nefasti nell'ordine sia educativo sia sociale che politico cadremo in una sorta di ottimismo illusorio se non aveva il coraggio di affrontare anche il problema del male che nella sua incidenza a volte spaventosa in ordine presenzialismo eccessivo ho sempre fatto rimando a due testimonianze una di Santa Teresa Davila e l'altra di San Giovanni Crisostomo Santa Teresa Davila nella sua adolescenza aveva molto da soffrire perché fu guidata da due direttori spirituali che enfatizzavano esageratamente il maligno lei disse angosce finché trovò un direttore spirituale illuminato e saggio che gli disse no ma noi crediamo di più in Gesù che è il redettore e non è il maligno che è stato sconfitto dal redettore allora Teresa Davila si sentì rasserenati e diceva spesso ma non continuiamo a dire diavolo diavolo diciamo di più Gesù 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 che ha vinto il diavolo altrimenti quasi andiamo più importanza allo sconfitto che allo vincitore e San Giovanni Crisostomo il quale diceva il diavolo fa già tanto male di suo piede di forcutano che non è il caso di attribuire di responsabilità che sono nostre perché a volte è più facile dire stato il diavolo e non dire sono stato io un cretino sbagliato io e avrei più episodio da raccontare ma se mai lo faccio dopo ma perché temente davvero non esiste più un responsabile e anche il povero Adolfino Hitler non era un bravo bambino ma così buono è stato il diavolo che l'ha distorto qualche responsabilità l'avrà ancora avuto anche lui e quante volte noi teniamo il rischio di attribuire il valigno a responsabilità che dobbiamo avere il coraggio di assumerci no? a conclusione di questo di questo dico sì credo che dobbiamo prendere più serie di più il problema del male ricordo la testimonianza di Italo Mancini un grande mente alla morte di Hermes Bloch che era un filosofo della linea calda del marxismo poi diceva Mancini uno degli ultimi incontri che erano e aveva partecipato un incontro di teologi sul problema del male e alle prime battute uscì sbattendo la porta dicendo ma qui non si prende su se il problema del male uno che fondamentalmente era un ateo e che avvertiva che comunque il problema del male è pervasivo e è da fruttare e il mondo io vorrei ricordare alcune parole in un grande fine teologo da fino a un volum che l'hanno portato su questo argomento di autori vari Walter Kasper il quale diceva noi dobbiamo affrontare questo problema del male del maligno con la serena libertà e la fiducia del cristiano nella redenzione e quanto alle influenze del maligno la vigilanza occorre la vigilanza e la freddezza nel sulco del grande della grande tradizione del discernimento dei padri pensiamo alle pagine di Ignacio di Loyola sul discernimento ecco quanto a me a partire da queste da queste premesse quanto criteri del discernimento che mi sento sempre più confermato è questo anzitutto l'azione del maligno è unicamente azione di disturbo esterno che ha importunato anche Santi l'avevo scritto prima di sentire da padre Aldo le parole che ho sentito un momento fa e citavo proprio il curato d'Ars quel grappino gli lo chiamavano o mi facevo passare delle notti costrattonato nel letto eppure il mattino dopo mi andavo a confessare e vince però sereno perché era in grazia di Dio Santa Gemma aveva segnato e padre il figlio allora qualunque azione il marino faccia dall'esterno non può intaccare il nostro organismo spirituale personale o comunitario se siamo in grazia di Dio io spesso uso questa immagine quando mi trovo ad aiutare a fare discernimenti dico vedi noi siamo in questa casa ben difesa guarda ci sono delle inferiante e metti che invece di essere in un momento quieto come questo fuori ci sia un tossico dipendente fuori di testa che urla sbraita spicchia vuole entrare certo siamo fastiditi siamo disturbati tu potresti impaurirti ma io posso assicurarti è già capitato altre volte dentro non può entrare perché le inferiante tengono e questo è un criterio fondamentale proprio per evitare psicosi e paure indebite che fanno il gioco poi del vaniglio fanno che inoculano la ciglia cioè la paura la tristizia spiritualis la paura di non raggiungere la salvezza quanto a riconoscere le azioni del vaniglio le riconosco tutte e sapete bene che nello schema classico sono quattro a cui però dico possono essere anche corrispondenti in un'interpretazione corretta forme anche psicologiche e qui dovevano chiedere la grazia del discernimento e dobbiamo avvertire la preziosa complementarità tra terapia psicologica e terapia spirituale perché a volte c'è da fare un discernimento accurato tra le due forme allora sapete che bene lo schema classico la possessione che è la più spettacolare e anche la più sfruttata a livello sensazionale pensate in film da terror come l'esorcista tuttavia la possessione abbiamo sentito di Santa Gemma Organi in quali forme anche spettacolari il demonio ha sbattuto una creatura dolce buona come l'egno alla possessione sul piano psicologico poi Gagliardi mi tirasse bene se è giusto questa connessione possiamo connettere la convulsione seconda forma è l'ossessione che per certi versi è meno spettacolare meno esteriore ma più pervasiva e più interiore potremmo il corrispettivo potremmo trovare nella fissazione la vessazione che è più interna ma che spinge all'azione potrebbe essere la compulsione sul piano psicologico e poi viene anche l'infestazione personale o locale e questo soprattutto può essere indotta anche da tramiti negativi le cosiddette fatture quanto all'infestazione con Gagliardi abbiamo vissuto un'esperienza non molto tempo fa l'anno scorso e spesso questo può essere indotta da fatture e sottilegge parlavo un momento fa dell'aspetto spirituale e del sostrato psichico quindi ovviamente noi dobbiamo riconoscere che gran parte di noi non è illuminata da vostra consapevolezza è l'inconscio e noi non siamo tuttavia soggetti il pessimismo freudiano ricordate che la parola inquietante quando Freud diceva l'io non è padrone in casa sua è la parte alta consapevole di una ventre di vulcano nel cui profondo possono scatenarsi dinamiche non 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 dominabili e quindi anche riusciamo ad avere consapevolezza e i grandi grandi psicoterapeuti di grande afflatto spirituale come Victor Frank parlavano invece di una interpretazione positiva dell'io l'io superio di Dio che illumina l'io nostro e che può venirne a capo anche delle dinamiche interiori che possono portare anche a peccare e a fare il male come la seconda grande tradizione dei padri che in fondo precede la psicanalisi segnala un bel volume tratto di Jean-Paul Larchet l'inconscio spirituale ricorda che nel padre si parlava di inconscio deifugo e inconscio teofilo quanto più la luce dello spirito in noi penetra e ci trasfigura un po' alla volta anche quello che in noi sembrava non dominabile non ancora ancora come dire ribelle a un'azione della grazia può trasformarsi certo qui dobbiamo tenere presenti le interconnessioni tra somma tra la parte corporea la parte psichica e la parte spirituale ma non dimentichiamo che noi crediamo le parole di Paolo che noi siamo comporti sì di somma corpo psiche ma di pneuma ma siamo abitati dallo spirito santo e allora noi osiamo credere che nel profondo più profondo di noi vi è una dinamis divina che cade in alto dicono i padri una forza d'amore che ci fa elevare sempre più fino all'incontro con il tu dell'amore trinitario noi osiamo credere che la sublimazione non è un'illusione ma una divinizazione una trasfigurazione questo riguardo concludo perché non vorrei spervermi con una frase che riassume un po' tutta la sapienza dei padri nella regola di San Benedetto capitolo secondo lo dico per il latino coeditazione pravas e cordi suo erupentes stati ma Cristo ma l'idere le patrie sue spirituali patefacere il santo dottore nel duplice senso di grande sapienza divina ma anche di grande guarigione delle malattie spirituali tradotto di citi queste parole che tradotte in un linguaggio un po' più di ordine psicologico può essere questo le dinamiche negative che rompono dal profondo subito spaccarle su Cristo e manifestarle al direttore spirituale Cristo dove era il grande transfert che prende su di sé tutte le nostre tensioni ce le fa scaricare da dentro e siccome egli opera attraverso la comunicazione fraterna comprendete perché nella tradizione dei padri il pater pneumaticosi il direttore spirituale la direzione spirituale era fondamentale proprio perché è lo strumento terapeutico è il metodo terapeutico per guarire le malattie spirituali e le infiltrazioni nel certamente il maligno può infiltrarsi soprattutto nelle crepe del nostro equilibrio fisico e psichico allora ricordiamoci che il vericolo maggiore del maligno non sono le azioni esterne sono le tentazioni con cui può penetrarci e forviarci entrano nelle nostre crepe faccio un esempio se non è significativo altro sul piano psicologico la prima tentazione di Gesù è pensabile che un uomo dall'organismo ancora vigoroso dopo 40 giorni di stretto digiuno nel momento del relax senta il bisogno biologico urlare dentro dallo stomaco che urla dalla fame ed è pensabile che abbia sentito la tentazione di usare il potere dei miracoli per trasformare i ciotoli in pagnotte sì ecco in questa infiltrazione si entra il mario ma se tu sei il figlio di Dio usa il potere dei miracoli per il tuo torno a condono e questo ci consola molto questa considerazione Gesù è stato tentato come siamo tentati noi specialmente nei momenti di dobolezza psicofisica possiamo anche reagire come ha fatto lui allora la tentazione risulta non solo una non una sconfitta ma un'ulteriore temperatura come le malattie se il nostro organismo se il nostro sistema immunitario reagisce bene la reazione alla malattia attraverso gli anticorpi rende il nostro organismo interiore più robusto allora ecco come importante ma prioritario ve lo dico non so così perché mi sembra questa l'esperienza che vivo poi ditemi poi chiedetemi terminite poi voi come dobbiamo discernere anzitutto tra tentazione e peccato tra sentire e acconsentire noi potremmo sentire anche le tentazioni più brutali tante gemma no e anche con questo ripercussione dall'esterno ma se il discepolo di Cristo non acconsente non solo non pecca ma ne esce spiritualmente robustito ecco allora qui vi dirò che tante volte dobbiamo puntare molto prima che non a benedizioni a le preghiere di liberazione a educare le responsabilità da assumere e prioritario spesso è la conversione prima che la benedizione e guarire dai sensi di colpa indebiti perché spesso noi attribuiamo dal senso del malino un senso di colpa di cui il Signore vuole che ci liberiamo perché vuole che noi assumiamo la responsabilità ma che non prendiamo i sensi non viviamo i sensi di colpa perché sono malattie e quello non vuole qui è guaritore non è un torturatore e le debolezze e le fragilità da cui riprendersi senza nessun senso di fatalismo e qui davvero termino con due parole bibliche e a cui l'Antico Testamento corrisponde alla grande risposta cristiana nella rivelazione piena della nostra redenzione mi ha sempre fatto molto riflettere le parole del Salmo 64 versetto 7 un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso e Geremia 17 9 10 infilo è il cuore è difficilmente guaribile e chi può riconoscerlo chi può conoscerlo noi possiamo dire che invece nell'intimo più intimo di noi siamo scrutati da uno spirito divino di amore che l'amore di Dio è infuso nei nostri cuori Romani 5 5 l'amore di Dio è infuso nei nostri cuori per lo spirito santo che ci è stato dato Egli scruta le profondità di Dio primo corretti 2.10 e scruta le nostre profondità quello che noi di noi che non riusciamo a raggiungere con la nostra consapevolezza Egli lo abita lo abita per trasformarlo ricordate le belle parole di San Tignazio d'Antiochia sento dentro di me una sorgente d'acqua viva che mormora viene al Padre io posso anche temere di essere uno stagno di acqua inquinata ma come è importante credere che nel fondo più profondo di me vi è una sorgente d'acqua pura e incorruttibile che bonifica il mio stagno poco a poco se io corrispondo a questa opera di trasfigurazione di guarigione allora veniamo dunque io dico sempre allora ciò che rende con connivente con il diabolos cioè con il divisore è il peccato soprattutto e soprattutto è il peccato e soprattutto il peccato contro la verità e contro la carità perché il peccato è soprattutto in queste due dimensioni spacca l'organismo spirituale e personale e l'organismo comunitario e siccome fin dall'inizio mi sono tratto sempre più rigoroso su questa interpretazione sempre più resti a usare i sacramentali ho ricevuto anche qualche lamentela ma vi dirò che mi sono sentito molto confortato da Papa Francesco pochi papi come lui parlano stesso del diavolo ma ricordando quello che disse ai cardinali che l'avevano eletto nel momento del comiato il giorno dopo l'elezione stiamo attenti perché il maligno opera all'interno dell'organismo della chiesa inoculando malattie devastanti e citavo e la malattia più perniciosa è lo spirito di mondanità quando nella chiesa cominciano a prevalere voglie di auto affermazione di protagonismo che inesorabilmente porta all'antagonismo ai giochi di parte ai giochi sporchi della fine interiore politica questa è l'opera più devastante del maligno dice Papa Francesco il resto è un disturbo esterno Gemma Galganio non fu intaccata nel suo organismo spirituale e nella sua essere in grazia di Dio da tutti i disturbi e quali abbiamo sentito da padre Aldo del maligno e un altro aspetto che mi ha spaventato ed è poi a volte risulta un'illusione ma un'illusione che è devastante sul piano psicologico è quando qualcuno forse perché si sente impari alle difficoltà della vita tende ad affidarsi al maligno quasi per trovare da lui le energie che gli mancano personalmente quando anche il maligno è una scendenza di persona dal punto di vista psicologico avviene una devastazione dico bene che porta nel discernimento e che risponde a una realtà che spesso riscontro e cioè riscontro spesso una mentalità fondamentalmente dualista quasi che il principio del male e il principio del bene sono due assoluti e anzi quello del male tende a prevericare su quello del bene e quindi viene a rintuzzarlo andando da Maghi Maghette magari anche dall'esorcista che in questo caso assume anche un aspetto del taumaturgo che scaccia il maligno ma noi siamo monoteisti ma noi osiamo credere in Dio solo che è amore trinitario non un Dio solitario ma un Dio comunione ma noi osiamo credere che il male non è un assoluto che Dio solo è il bene assoluto l'ogni bene dice San Francesco è che il male è una privazione di bene è un'assenza di bene viene la definizione del peccato che può essere anche applicato al maligno di Pavel Florensky il grande teologo scienziato e martire nella chiesa russa definiva il peccato come una autosufficienza inospitale l'autosufficienza che non non ci permette più di essere in comunione con gli altri questo è contro la trinità questo è devastante nei confronti della trinità che invece ci fa crescere la comunione di cui l'amore trinitario è un modello origine modello e compimento allora il maligno è un'identità negativa e se mai dopo volevo leggere una bella definizione che da teologo così fine laua Joseph Ratzinger ma proseguo perché vedo che il tempo corre allora noi fronteggiamo il mistero del male con una fede salvifica noi crediamo nella redenzione noi crediamo nella vittoria di Cristo sul principio di questo mondo perché lui solo poteva fronteggiarlo e lui solo poteva vincere allora io richiamo sempre queste parole che Gesù ha promesso Giovanni 12 31 prima della sua tremenda passione Gesù dice quando sarò innalzato da terra sulla croce il principe di questo mondo sarà spodestato e quella manca e quella te l'inno la sequenza pasquale dell'ottava pasquale morse vita duello conflixere mirando la morte e la vita ci sono scontrati in un prodigioso duello il signore della vita che è sembrato soccondere in realtà ha vinto lui che non aveva bisogno di morire ha voluto morire di quale morte per liberare noi dalla morte e allora il capitolo ottavo della lettera ai romani quando andavo con l'artibano qualcuno l'avrà conosciuto al processo dei nostri ragazzi ai processi facciamo sempre questa considerazione che il precipiso non è nel posto giusto nelle aule giudiziarie perché si trova sopra la testa del presidente che combina la sentenza ma l'unica volta in cui Gesù è entrato in un tribunale ci è entrato da imputato ed è uscito da condannato il suo chito più atroce più infamante e più crudele no e se Dio è con noi ci sarà a conto di noi dice Paolo ma se lui che è giudice si è messo dalla parte dell'imputato ha preso su di sé la mia imputazione ma scontati in sé la pena che avrei dovuto scontare io ma chi mi può strappare dalle sue braccia e ci separerà dall'amore di Cristo e le avversità fuori di noi dentro di noi attorno a noi ma in tutte queste cose stravinciamo dice la lettera agli ebrei e tutto egli ha racchiuso nella sua misericordia Romani 11 32 dove abbondato il peccato sovrabbonda la grazia Romani 5 20 lui che è disceso in fondo agli inferi dove sarebbe stata la perdizione inesorabile perché e dove la lontananza dal padre è estrema fino alla rottura di una pagina bella di von Balthasar proprio su questo mistero dell'Italia della discesa agli inferi ma l'amore che ti è venuto il padre e il figlio non si spezza perché il legame è allo spirito sacro un filo teso fino allo spasimo ma che non si spezza per cui allora anche nel luogo della più inesorabile perdizione si dilata la grazia tutto è racchiuso alla sua misericordia e ci sono due termini uno da primo Timoteo 3.16 e l'altro della seconda che ritorna come ritornello nella esortazione apostolica di Gianni Paolo II sulla penitenza il sacramento del perdono il misterio impietatis e il misterio iniquitatis il misterio impietatis che ha vinto sul misterio iniquitatis e ancora mi permetto di dirvi questa cosa perché credo che ci aiutano ad essere più carichi interiormente contro ogni avversità e il laimo tipo che ritornello come in una sinfonia che termina poi in un ripieno nel divas in misericordia l'amore misericordioso più forte del male più forte del peccato più forte della morte termina addirittura dicendo così se anche l'umanità di oggi avesse accumulato un tale cumulo di peccati non meritarsi il diluvio e oggi sarebbe il diluvio di fuoco perché non abbiamo ancora risolto il problema dell'esplosione atomica da un momento all'altro potremmo andare a rosto tutti bene quando anche gli uomini nella loro follia nel misterio iniquitatis di ogni essere da questo l'amore misericordioso mai ha vinto e farà cili nuovi in terra nuova finalmente liberata dalla corruzione del peccato della morte allora voglio ricordarvi e mi avevo fatto molta impressione un incontro che abbiamo fatto di responsabile dei seminari a Roma quello che ci disse il vescovo Bregantini Giancarlo Bregantini disse quando andovesco nella Locride avvertì il fiato dell'andrangheta e ne ebbe paura sono proprio avvertito come una presenza demoniaca e mi hanno aiutato le parole di Giovanni Paolo II nel volume autobiografico Misericordi Memorie e Identità dove narra la sua la sua vicenda di giovane prete semialmente giovane prete sia confronto al diabolico del nazismo e poi al diabolico dello stalinismo citavo le parole di un altro non sospettabile di essere un baciapile Goethe il quale definiva il diavolo così è una parte di quella forza che vuole sempre il male e di fatto poi opera sempre il bene perché Dio lo frega e non lo dice non lo diceva il proverbio che il signore sa trarre il bene anche dal male non è più di ricordarmi o lo uso spesso sapete questa frase forse mi sto dilungando troppo e in un santo monaco russo San Serafino di Sarov sarebbe bene conoscere la vita vi dico solo che visse 15 anni nell'eremo nella taiga in silenzio e per tre anni fu come pervaso dal mistero del male come se il suo cuore fosse schiacciato come il cuore di Gesù nell'agonia come Gesù nella derelizione della croce poi la Madonna e i santi le appavano e disse di tornare nel monastero e di incontrare ogni persona superando la regola della clausura e ogni creatura trebolata che incontrasse diceva mia gioia Cristo è risorto e ripeteva le parole che due volte sono dette da Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni proprio nell'imminenza della passione non sia turbato il vostro cuore e non abbiate paura io ho vinto il male e ora qui credo che ve l'abbia già detto la mattina Don Silvio vi è un passo molto bello un incisivo del Catechismo della Chiesa Cattolica numero 395 dove parla del mistero della permissione del male e un fine teologo salesiano Giorgio Godelino definiva la permissione del male proprio questo un potere residuale e passiamo a nominarlo così e il maligno è come un drago ferito a morte che sa che il suo tempo è breve come dice l'Apocalisse sa quello che noi vedremo anche noi nella visione beatifica che mille anni per Dio sono un giorno solo un palpito un battito di palpebra è un giorno solo con i mille anni lui sa che il suo tempo è breve e sarà sconfitto definitivamente e ho un'ulteriore conferma di consolazione che io vorrei intanto ricordare quello che ho sentito quando sono stato ad Auschwitz chi è stato ad Auschwitz si è poi sceso nel sotterraneo della tortura ha avuto la percezione di scendere all'inferno e quando ci siamo trovati davanti alla cella di morto per fame lui è morto Massimiliano siamo caduti in ginocchio e mi ricordo che mi sono detto allora ma chi ha vinto ad Auschwitz alla fine ha vinto il santo e nel fondo dell'infero ha fatto splendere la luce della Pasqua voglio soggiungere e non so se lo sapete è stato uno dei lettori che mi ha scioccato di più questi ultimi tempi la vita parallela di Massimiliano Colbe e di Rudolf Öz il comandante di Auschwitz che da bambino era un chierichetto anche lui poi preso la strada dell'SS e non so se lo sapete che quando a Norimberga ebbe ancora un atteggiamento sprezzante quando fu internato nel carcere di Cracovia fu colpito dalla bontà dei carcerieri polacchi allora andò in crisi come nazista scriveva al suo figlio lettere accorate dicendo figlio mio non abbandonare non disattendere la voce della coscienza in cui ti parla Dio e io l'ho fatto tuo padre è uno degli esseri più abominevoli dell'umanità voi sapete che chiede di confessarsi e al cappellato il po' per la monza l'ha sentito venne un padre gesuita da Cracovia allora mi diranno che quando ho letto questo mi sono fermato mi sono messo dalla parte delle vittime e dalla parte dei non credenti mi dicevo questi ho fatto di quei morti per scorsa questa è un paradiso e poi benvenuti in mente che Massimiliano faceva pregare i suoi compagni di sventura per la conversione degli agonizini è la grande vittoria c'è più gioia in paradiso per un disgraziato come Eus che si converte dicono questa è la vittoria negli inferi è la vittoria del bene del sommo bene e voglio ricordare anche questo c'è un nel catechismo della chiesa cattolica numero 312 314 dove è ricordato il dialogo tra una reclusa inglese del 400 di Normi che ebbe rivelazioni da Dio da Gesù e un giorno vide il problema del male e rimase inorridita e quando riappasme Gesù gli disse ma Gesù ma perché il male perché il male e Gesù disse il male a questo mondo è inevitabile fa parte della libertà dell'uomo che perché la salvezza avviene attraverso un rapporto di amore non di coercizione però ricordati che infine tutto sarà bene in tutto e in ogni cosa non sarà che bene e in questo bene io pongo colei che noi veneriamo come la vincitrice del maligno dal proto-vangelo al dono dell'apocalisse vi dico un po' allora ecco vi dico brevemente un po' qualche parola ancora sul metodo e vado avanti per un momento io divento sempre più diffidente nei confronti di questo dell'emplare sulla spettacolarità sì devo dire che qualche volta ho avuto la percezione di essere forse in presenza della bestiaccia ma quanto al criterio spirituale che uso uso questo e lo sento sempre più confermato dall'esperienza quello del colloquio tanto mi accorgo che devo prevenire due attese che sempre devo deludere e spesso sapete viene gente che chiede all'esorcista di avere il dono della cardiognosi e di essere taumaturgo e il soldone è questo né che ho questa fattura né che è stata la tale che me l'ha fatta e per soddisfare il paziente io dovrei dire sì è vero adesso facciamo la preghiera delle relazioni e devo dire anche che purtroppo c'è anche qualche esorcista che è un po' facile nel fare questo discernimento ho l'altra del taumaturgo mi liberi vengo da lei molte volte sono già andati da altri da maghi e vengono come per andare dal taumaturgo definitivo allora io penso vi dirò che uso questo criterio così quanto è il primo punto io non ho il dono della cardiognosi ma guarda che il dono della cardiognosi non è stato data da Dio in maniera permanente è stato operato da Dio leggeva nei cuori eppure quando il veggente della Salè Massimino che era un ragazzo un po' svampito andò dal santo curato il santo curato gli fece qualche domanda precisa quello rispose a Vangera e da prima il santo curato aveva delle perplessità sulla Salè vuol dire che anche lui ha raggiunto la certezza della Salè attraverso un percorso interiore non attraverso così sortilegi e è quanto il Tauva Turbio di questo io ho invidia di San Pietro il quale sai che ha fatto camminare un asciancato e ha risuscitato talità la donna gazella cose che io non sono ancora riuscito a fare eppure sai che quando la gente si precipitava da lui come da un Tauva Turbio dice ma non avete capito che è l'energia del risorto che ha compiuto questo ha dato questa forza non io io sono solo un tramite è molto pericoloso è quando il Tauva Turbio agisce in proprio e permetto di dirlo pensate un povero Meningo perché è pericoloso per il protagonismo della grazia e quindi io rinuncio ho anche deludo le attese di benedizioni immediate e chiedo sempre anche questo se mi chiedono di andare a posto a benedire dico guarda se dovessi assecondare tutte le richieste dovrei essere in giro per solo quello e chiede il tuo parroco che venga a benedire perché non c'è uno che ha la benedizione più potente dell'altro diciamo nel segno della complementarità della grazia e poi sento la necessità della priorità del colloquio certo mi tiro anche la zappa sul piede perché il colloquio è più impegnativo che non dare una benedizione rasserenante però mi sento come nella protezione medica prima si fa la diagnosi in scienza e coscienza e se non ho il dono della cardinosa devo farlo in scienza e coscienza e poi arriverò anche a indicare una una terapia e con attenzione poi agli sviluppi da prontare nella terapia sempre nella distinzione poi tra gli antibiotici e i prostituenti e vi dirò che tante volte nel colloquio si rispondono sofferenze vere malattie spirituali non guarite traumi e nodi emoti non risolti che fanno male ancora magari non in maniera primamente cosciente conseguenze protratte di disordini esistenziali una fatta la vita disordinata adesso ne paga le conseguenze ma non sarà un esorcismo che la risolve sarà una conversione e vivere in modo penitenziale e rigenerante questa sofferenza di cui si deve dire sì della sofferenza addosso ma adesso la vivo nel Signore ecco qui poi devo sottoneare la complementarità benefica tra psicoterapia e cura d'anime quando è fatto insomma si agisce con attenzione e rettitudine la terapia complementare qui voglio ricordare delle parole di un altro non sospetto di essere bacio a file Jung il quale diceva dopo 40 anni di professione io accorgo che cercato o no il vero problema è Dio e che laddove una persona guarisce recupera la salute spirituale guarisce le malattie spirituali comincia a star meglio anche sul piano psicico se c'è qualche problema vado allo psicoterapeuta e i due procedimenti sono complementari sarò breve ecco qui di solito poi quando chiedo propongo questo dico ma allora come stai sul piano della tua salute spirituale del tuo organismo spirituale cosa intende dire padre la vita di preghiera tua com'è oh no no ma io prego e a volte mi mostrano libretti zeppi di tre due novene al santo tale l'altro santo che dico ma ma questi sono scongiuri figlio mio dico ma è come se due innamorati per garantirsi la fedeltà nell'amore coniugale lei faccia dei sortilegi perché lui non lo lasci e viceversa lui dico ma ditevi che vi volete bene e mostratevi che vi volete bene e dico ma perché è un rapporto vitale di amore non è fatta solo di scongiuri o di preghiere di liberazione io sono sempre più preoccupato di certe forme non voglio generalizzare in certi ambiti anche del rinnovamento dove mi sembra che si troppo si tenda a fondare la fede la vita spirituale sullo straordinario apparizioni locuzioni su un esercizio eccessivo della preghiera consolatoria e penso dico ma c'è un testo molto bello di Jose Gatzinger prefetto della croce della fede su alcuni aspetti della mediezione cristiana lui dice ma dei padri deve imparare anche la preghiera nell'aridità nel deserto nella fatica ma di Maria i piedi della croce non danzava di gioia Gesù nel Gezzemani non pregava con allegria ma era meno unito al padre ma noi dobbiamo anche educarci a non vedere nella preghiera soltanto quelle miei rischi non riesce cattolica della consolazione psicologica attraverso anche questo con questo non è che Dio non ci doni anche delle belle consolazioni quando meno ce le aspettiamo a volte ecco poi la ricerca eccessiva di Gesù come guaritore io dico sempre ma certo Gesù ha guarito tanto si è notato quando guarì e chiedeva la fede in lui come redentore dico ma poi ha redento perché se lui fosse solo guaritore non ne veniamo a capo e fu guaritore proprio facendo delle guarigioni un segno rivelatore di quella grande guarigione che è la liberazione dal male definitivo e dal peccato ma sono in funzione della redenzione non al contrario e quindi come dobbiamo insistere sulla professione di fede nel redentore e una vita di preghiera spirituale più intensa allora a volte mi viene da applicare le parole di primo corinthio 3-2 però quando eravate i bambini vi ho nutriti di latte e di latticini ma poi man mano che diventate adulti dobbiamo passare anche a cibi più solidi come antes l'enfasi sul demoniaco sul messaggio apocalipici lo incontrate di persone che vengono a portarmi rivelazioni private con messaggi apocalipici probabilmente lo dice bene un filo psicologo scinigo che dice forse in tempi di crisi ci ha più bisogno della rassicurazione miracolistica e si interpretano i tempi difficili come segni angosciosi di qualcosa di più grande di noi invece di educarci alla responsabilità sempre più la vita sacramentale robusta io richiamo la confessione regolare fedele la direzione spirituale perché la confessione è il sacramento evidentemente teraperto se sei morto ti guarisce se sei malato ti risuscita se sei malato ti guarisce se sei debole ti rivigorisce se sei triste ti riempie dalla gioia pacificante e liberante del tuo giorno se qualcosa nella tua memoria ti fa male ancora ti guarisce la memoria nel nuovo millennio in Eunte citavo proprio queste parole di Giovanni della Croce il Papa Giovanni II e allora vedo che le condizioni preglie per ogni guarigione sono innanzitutto la consapevolezza del bisogno di guarigione spirituale il proposito di una sincera conversione e la perseveranza chiedendo aiuto ogni volta e qui faccio due riferimenti evangelici proprio per evitare di enfatizzare l'intervento esterno confronto all'intervento interno adesso dico ma quando Gesù andò a casa di Zanchero non è scritto che addosso un'auto vuota d'acqua santa tra le mure della villetta di Zaccheo e Zaccheo disse grazie ti vado pago io il restauro del tetto metti fuori anche la targhetta come viene fatto dove viene l'assolenza hanno detto Papa Francesco in modo forse che non si fanno offerte alla chiesa con soldi di corruzione avvenne quando Zaccheo disse io sono uno sporco usuraio io ho succhiato il sangue della gente io sono un disgraziato ma c'è salvezza per me si convertiti allora cercherò di riparare il possibile la salvezza è entrata in questa casa poi si può anche dare un'aspressione ma senza questo anche l'aspressione risulta un gesto magico altro esempio che porto poi vado la città il racconto del ritorno di Gesù a Lanzare dopo il suo primo ministero quando era stato riconosciuto come Messia dalle parole come il Messia che il Signore aveva mandato dalle parole diventa dai segni diventa il suo paese avrebbero dovuto rallegrarsi pensa l'atteso di Israele colui che i profetti hanno preannunziato il Signore non ha scelto Gerusalemme nascendo qui nel nostro piccolo paese cosa è avvenuto? che nei Maggiorenti cominciò a scattare il pregiudizio ma che era con lei all'inizio del Giuseppe all'inizio della Mariana si oggi ma fareva l'ignone non neanche fatto l'aura di teologia nella nostra facoltà adesso vengono a fare il Messia ma c'è qualcuno di noi che ci ha creduto scritto nel Maggiorenti il pregiudizio dei Maggiorenti divende pettegolezza di tutto il paese ha rischiato la pelle quel giorno in Gesù e nel caso non è riuscito a comunicare niente perché non trovò recezione ma non risulta che abbia fatto lampi, tuoni, luci sinistre odori nauseanti è riuscito a insinuare nel cuore pregiudizio e pettegolezza può avvenire anche sul sagrato delle nostre chiese dopo la messa e con l'eucaristia come sacramento eminentemente c'è che ci dono la pienezza della vita abbiamo recuperato anche molto e nella carriera con i separati la forza terapeutica dell'adorazione eucaristica ecco di Gesù l'agnello che è venuto ad assorbire il male del mondo e che irraghi in noi il suo spirito che ci muore e ci divisa certo fondamentale e decisivo è la formazione di una coscienza vigile e coraggiosa porto un altro esempio e poi concludo non so se conoscete la storia di Franz Jägerstetter che era un contadino austriaco nella giovinezza un po' sbandato ebbe una figlia dalla relazione con una cameriera lui voleva riconoscerla sposare questa donna lei non volle poi a un certo punto si rifece la propria vita si sposò con una ragazza bravissima e lui divenne sacrista nella parrocchia quando Hitler fece l'encluse e lui la coscienza si oppone la moglie era angosciata cioè questo qui se me lo beccano me lo ammazzo ma riuscì a non essere intercettato dai potenti quando ricevette la cartolina precetto dell'arrivo dell'arrivo diamento militare lui fece obiezione di coscienza e nel nazismo la obiezione di coscienza significava la moglie non lo so opporsi i genitori di lei lo rimproveravano come per un tuo puntiglio lasci vedere la nostra figlia lo portarono dal parroco e il parroco disse ma i nostri vescovi non hanno detto niente e la tua coscienza vale più del magisterio dei vescovi non portarono dal vescovo che disse la stessa cosa e gli egzette dicevano ma se una masnada di briganti che ha già fatto rapine e omicidi venisse a offrirmi un ingaggio l'auto voi mi direste la stessa cosa no però sai qui hai ragione però che sai se tratta di un governo insomma fu impiccato dopo benedetto decimo sesto l'avevo certificato due anni fa allora vi dirò che uno nell'ultimo incontro che mi ha fatto con gli esorcisti di Piemonte dicevo pensiamo quanti tapini magari anche davvero posseduti hanno chiesto l'esorcismo l'esorcista era avvisato l'opportunità di fare l'esorcismo ma chi al tempo del nazismo intuì dove il maligno stava compiendo la sua azione più diabolica un regime che avrebbe devastato il mondo allora qui dico anche noi oggi stiamo attenti perché nella politica nella finanza Reiso Maretena è un libro molto bello su il principe di questo mondo nell'arte il degrado dell'arte ma non ci sono strutture demoniache che possono fare scatenare guerre anche in cruete quanto al sangue ma ugualmente mortali e qui dobbiamo essere vigilanti con vedo che Papa Francesco ci aiuta in questo quanto agli esorcismi veri e propri quando è necessario si fanno qualcuno l'ha fatto però io vi faccio presente che dobbiamo valorizzare ciò che la chiede di Acidona non si della gente stamattina nelle nostre promesse battesimali noi abbiamo fatto la professione di esorcismo che significa essere sempre pronto a lottare per il bene contro il male che cerca di insediarci in tutti i modi Bonhoeffer diceva il cristiano nelle promesse battesimali fa una scelta di continuità di rotture tutto ciò che è di buono di giusto di vero il cristiano fa comunione perché ciò che viene di buono nella pasto umana è lievitato dalla grazia ma in ciò che è di sporco di falso di ingiusto il cristiano si imbatte fa di essere di coscienza non avremmo avuto i martiri se non ci fosse stata questa lotta contro il male da parte di quelli che hanno avuto il coraggio di pagare l'interessore la preghiera del Padre Nostro e l'embolismo della preghiera liturgica io lo recito spesso sapete libera il Signore a tutti i mali coincida la pace ai nostri giorni è una preghiera di liberazione oggi andiamo a cercarne di quelle edulcorate o superficiali ma che abbiamo della preghiera che è un approfondimento della consegna di Gesù liberaci dal male ecco e e non finisco qui perché non finiamo grazie a tutti Sì Giorgio e Giovanni venite l'attimo sì io ero venuto veramente mi chiamo Giorgio Gagliardi sono medico psicoterapeuta ero venuto per sentire e lui comunque vi spiegherò cosa facciamo di solito un medico che segue segue l'esorcista non lo segue ma lo precede di solito noi ascoltiamo come medico ascolta il paziente noi ascoltiamo il soggetto cosa ci espone e si sa bene che non sempre è quello che dice è quello che vorrebbe dire c'è sotto molto di più cominciamo noi viaggiamo per gradini cioè il primo gradino studia e studiamo vediamo se c'è qualcosa di fisico fisico vuol dire che cade sotto le leggi della fisica poi il secondo gradino è il gradino psicodegnostico cioè escludiamo oppure valutiamo il disturbo psichiatrico che il soggetto presenta tutti abbiamo dei disturbi psichiatrici tutti quelli che sono dentro qua chi più chi meno c'è qualche disturbino psichiatrico valutiamo questo disturbo psichiatrico si può portare veramente a quello per cui il soggetto è venuto perché come diceva giustamente padre Mario è difficile che venga per esempio c'è la possessione lucida che è la possessione di quelli che non vogliono assolutamente cioè che sono dediti al male sono operai del male perciò quelle di quasi sempre non vengono e non vanno dalle luciste sono quelli che quelli che veramente sono dei posseduti veri e propri perché sono a servizio finita il lato psicogeneo ostico con l'aiuto anche dei test si entra in un mondo che si chiama un po' ballerino si chiama paranormale e che però è un mondo abbastanza complesso che ultimamente ha avuto anche delle spiegazioni soprattutto con le applicazioni della fisica subatomica non entro in questo discorso se no entreremo in un discorso piuttosto grave pesante ma è come per dire ci sono delle leggi della fisica subatomica come questo un elettrone se noi lanciamo un elettrone questo può uscire da due porte pensate un po' cosa vuol dire cioè ci sono delle leggi fisiche che sono state sovvertite dalle leggi subatomiche e che spiegherebbero determinate cose e questo questo paranormale però va preso va preso con molta cautela finito il paranormale si entrerebbe in un'altra fascia superiore che sarebbe il mondo preternaturale o diabolico e poi il mondo sopranaturale o divino e questi noi non ci facciamo assolutamente carico perché è inutile noi ci fermiamo siamo dei medici siamo esperti in medicina e così ci fermiamo solo ci fermiamo anche al paranormale chi lo sa io per esempio faccio parte di un laboratorio di Bologna del paranormale e mi interessa anche di quello che si danno dei giudizi si scrive un'anamnesi che vuol dire si scrive una storia della persona e poi oltre a questo si aggiungono tanti dei piccoli particolari che di solito sconfono che per esempio gli psichiatri non chiedono mai se il soggetto è andato da maghi se è andato da esorcisti laici se è andato per esempio se segue delle religioni che so io si è andato a tutta parte adesso o da altre parti indiane a imparare determinati rituali determinate cose tutto questo tutta questa anamnesi poi dopo la portiamo dall'esorcista e la discutiamo cioè gli diciamo guarda che questa malattia può portare a questo questa malattia può portare a questo questo può portare a questo non è escluso che ci possa essere anche una parte spirituale in tutto quello che si in tutto quello che si porta un esempio pratico è quello che io ho avuto anni fa una che era una dottoressa o tra il resto una laboratorista che presentava al venerdì e soprattutto al venerdì santo delle stigmate cioè perdere la sangue dalle mani dalla fronte e dai piedi e è venuta lì perché lei non voleva queste cose lei non voleva io non voglio eppure al venerdì succedeva così doveva stare a casa dal lavoro e io gli ho detto eh vabbè succede gli avevo chiesto delle analisi se aveva fatto così e mi ha detto sì ho fatto qualcosa ma era tutto a posto quando esce quando esce dalla porta perché di solito le diagnosi più importanti le dice il soggetto quando sta andando via è proprio vero le ultime parole che dice sono le più chiarificanti della sua situazione questo ha detto io maledico mia madre perché mia madre c'è il lupus il lupus è una malattia che fa venire emorragia lei chissà per quale motivo aveva traslato aveva spostato l'emorragia in quei punti in quei punti chiave religiosi e che gli succedevano con quella frequenza lì e che non voleva perché vedete che ci sono delle delle spiegazioni naturali spiegazioni normalissime che per cui questa gente va dall'esorcista sì è vero e proprio oppure vai in un centro dove c'è l'esorcista perché dice mi devi liberare di questa cosa ma se tu c'è il lupus mi dispiace sì possono succedere miracoli ma di solito non succede tutto questo c'era ce ne sono diversissimi di questi casi proprio così c'era per esempio un un chirichetto che ha 7-8 anni che andava sempre a serviz messa e che usciva dalla chiesa da una porta la mamma l'accompagnava usciva sempre dalla porta di destra un determinato giorno si esce dalla porta di sinistra il giorno dopo ancora dalla porta di sinistra la mamma dice ma uscivi sempre da destra non ci sono lì né catastre di sedia né niente perché è riuscito lì e lui ha detto perché lì ci sono degli omini verdi io esponevo questo esempio non euro fischiato ma è una schizofrenia precoce e questo ragazzo la mamma gli ha chiesto perché chi erano quegli omini verdi cioè il ragazzo ha detto la mamma che quegli omini verdi erano lì e poi erano anche lungo la strada per andare a scuola e uno psicologo piuttosto io dico piuttosto che non doveva farlo gli ha chiesto di parlare assieme a questi omini verdi e lui si è messo a parlare a questi omini verdi e questi omini gli ha detto che sai noi abitiamo giù sotto abitiamo giù sotto abbiamo incontrato te e ti accompagniamo infatti lo accompagnavano anche a scuola cioè vicino al banco c'era sempre uno di questi poi una volta non lo voleva più ci ha come litigato quello l'ha morsicato e sulla mano gli sono restati dentro le impronte di dentini tipo quelli della Volpe poi un giorno questi in confidenza sempre adesso ti facciamo vedere dove abitiamo sono andati su in cima alla scuola dove c'era non c'era il tetto c'era una terrazza e gli hanno detto vieni qua che ti facciamo vedere vedi noi abitiamo giù di sotto e me come si fa per raggiungerli e lì ci si butta e vedrai che è meglio perciò in questo caso è molto più drammatico di quell'altro perché c'era c'era una spinta al suicidio che il ragazzo stesso non poteva non poteva produrre però noi sappiamo che sappiamo che noi il male non è il male solo cioè l'angelo del male e il male conseguente ci abbiamo anche un male interno male interno ci abbiamo delle emozioni negative che sono dati da due centri che si chiamano amigdala dove ci sono emozioni di tutti i tipi e anche le emozioni negative cioè quelle che spingono il male perciò bisogna fare una distinzione molto molto fine tra quel male che abbiamo tutti noi internamente e che ci porta a determinate azioni così invece il male spirituale che segue però questo male non pensiamo che siamo fatti a cassetti perché siamo tutt'uno giustamente faceva delle distinzioni padre Mario diceva ossessione ossessione messazione così però l'uomo è un tutt'uno non è fatto a cassetti e perciò quando si avvicina l'angelo dal mare agisce a livello psichico agisce a livello psicologico agisce a livello mentale poi agisce a livello fisico cioè abbiamo in diversi campi per cui se uno presenta un difetto fisico psicologico psichiatrico così potrebbe essere anche bisogna distinguere bene da la percentuale che c'è di disturbo inferiore e di disturbo superiore può essere anche quello che erano problematiche cioè c'è una convinta certe volte non si è neanche in caso molto bene di distinguere perché anche noi siamo limitati abbiamo i nostri difetti poi hanno scritto giustamente due libri il guaritore ferito cioè chi cura gli altri molte volte è pieno anche lui di ferite io mi fermerei qua perché non so perché non so perché non so ma voglio dire che grazie io sarò molto più breve perché già molti mi conoscono sono Giovanni Vistucci a capo di un'associazione che contrasta la pedofilia soprattutto quella organizzata con le reti pedocriminali e i cuti alternativi i sette maghi e quant'altro operiamo attivamente anche con la collaborazione della diocesi e ci muoviamo anche con le forze dell'ordine perché in alcuni casi le segnalazioni vengono fatte alle forze dell'ordine perché rivestono dei caratteri anche penali spesso cosa dire molti mi fanno delle domande della classica ci sono sette sataniche a Novara certo che ci sono Novara non è diversa da altri mondi ci sono sette sataniche che hanno operato in centro di Novara si trovano della serie vicina a Vesi di Novara fanno i rituali nei boschi del Ticino ce ne sono ma sono anche molto pericolose e considerate invece poco pericolose certi tipi di yoga e certi corsi di meditazione perché ci fanno anche male farci un po' di meditazione bene ci sono degli yoga come per esempio Saja Yoga inventata da una santona indiana che non è riconosciuta neanche in India che è stata anche malamente cacciata via dal proprio paese si chiama Saja Yoga che è passata la mia vita chissà in quale animale adesso si sarà incarnata che faceva uscire la rietta fresca dalla fontanella sulla testa dei bambini della scuola Fratelli Dio qui di Novara pochi anni fa in cui ci siamo dovuti scontrare con le mamme con le mamme di questi bambini che dicevano non fanno nulla di male fanno meditazione i bambini e si hanno facevano meditazione e gli facevano sentire la rietta fresca che usciva dalla testa con un classico trucco stratagemmico di stoppare anche al quartiere ovest di Novara dove spesso si incontrano a fare degli incontri con gli adulti e uno di questi incontri sono andato anch'io a vedere cosa succedeva e realmente come si manifesta quindi la classica immagine della santona che viene già verificata da viva ancora di più penso da morta con lumini accesi fiori incensi accesi eccetera eccetera e poi tutto un rituale per cui sentiva mettendo la mano sulla testa la rietta che usciva dalla testa adesso è vero che il dottore ha detto abbiamo tutti dei problemi più o meno metà è vero che mia moglie non c'era che se fosse stata qui presenta si dottore si viene reso c'è questo mi sembra che non c'è però che abbia nella testa così vuoto che inizio anche una ventola si può uscire l'aria distante sarebbe proprio un'aria ed è il classico trucco poi alla fine di tenere le mani in basso non sarete il trucco di indovinare dove ho messo la pallina e quale mano non ho nascosta una mano la tieni in alto e l'altra in basso poi si mettono vicino le due mani quella più chiara perché il sangue è defluito e quella dove ha nascosto la pallina e quindi viene facendo individuata è un trucco semplicissimo usava questo quindi le due mani sempre rivolte verso il basso con tante rituali tante parole di dedizione alla santona e poi alla fine il signore o la signora di turno facendo la mano sulla testa a 30 cm in questo modo mentre la testa fa sul basso dopo un po' questa mano si raffresca perché c'è un deflusto del sangue e se esce il palmo della mano più sensibile del dorso mi sento più fresco sotto la mano che non sul dorso ma non è la testa vuota mia che riesce in questo quartiere tutte le persone che hanno il mio quartiere tutti nessuno che ha minimamente pensato cosa sta accadendo cosa sta facendo pensare scusate volevo dire attenzione che nello yoga forse non so in quanti lo sanno ma ci sono i cosiddetti chakra che bene o male poi li aprirebbero cioè ci sono quei tecnici li che li fanno aprire nessuno cioè ogni chakra ha un devi e una debba cioè c'è un dio e una dea per esempio quello del collo c'ha la diakali la diakali è quella che c'ha 7-8 testi così perciò vedete anche uno che gli esercizi che si fanno non dicono completamente che sono semplici esercizi perché mano a mano che si vanno avanti fanno queste cosiddette aperture che finiscono per essere delle induzioni psicologiche vere e proprie di dipendenza a queste cose poi un altro problema invece sulle meditazioni che sappiamo benissimo possono avere anche delle gravi di influenze sull'aspetto psicologico della persona e il dottor Gagliardi ne sa qualcosa perché parecchie persone sono dovute passare da lui che è psicoterapeuta dopo aver fatto dei corsi meditativi in alcuni centri guidati non si sa da chi qualcuno che si inventa maestro meditativo e vengono fuori con delle ripercussioni e spesso anche dall'esorcista perché in certi tipi di meditazioni ci sono delle situazioni che a livello spirituale procurano dei disturbi per cui il padre Mario di turno deve intervenire con la sua missione con la sua opera e in dulcissimo punto chiudo qui la grande sequela di veggenti o pseudoveggenti che circola per tutto il territorio nazionale europeo addirittura mondiale c'è una persona che dice lì quella persona parla con san giuseppe mamma lucia a foggia c'è un pulmon al mese che parte da novembre è andata mamma lucia di foggia sconfessata sconosciuta riconosciuta una grande truffatrice ma comunque continuano ad andare le persone di da mamma lucia oppure la cartomante di casa che va a messa a chiesa si viene a messa si fa la comunione e poi a casa sua ti fa le carte ti legge i conti oppure ti fa altre altre fa l'indovina ci sono anche questi e poi questi veggenti noi abbiamo avuto una volta la sfortuna di incontrarci con una certa debora che viene da Manduria ci siamo dovuti rivolgere anche al sacerdote dove si sta organizzando soprattutto i preghieri avvisandolo che questa persona non è assolutamente una veggente è stata confessata pubblicamente dalla diocesi di Oria da cui preveniva lei e che quindi non era per niente vero è stata anche riconosciuta dal CICAP per alcuni trucchi che utilizzava per far apparire quest'olio della Madonna della Cuglia anche questo è rinnoviglio e a cui è partecipato anche il dottor Gagliardi per riconoscere questi trucchi che venivano utilizzati tramite degli esperimenti e nonostante questo la gente continua ad andare a seguire questa persona che gira per l'Italia raccogliendo soldi raccogliendo fondi perché devono vendere dei messaggi i rosari particolari ma non è l'unico caso ce ne sono tanti di Meggendi c'è stata anche questa grande a Brutusensi a tempo fa per cui appariva Gesù c'era anche una foto di un Gesù in un certo modo ecco anche lì si è riconosciuta essere tutta una storia non vera assolutamente non vera anche la chiesa per senso per le distanze tanto che mi sembra a causa di questo signor Casagrande delle persone abbiano avuto delle gravi lesioni alla retina dagli occhi perché dovevano fissare il sole su un monte in Liguria perché il sole doveva ballare avendo delle conseguenze anche piuttosto gravi e permanenti ecco per cui dico come diceva poco fa padre Mario e qui concludo c'è la ricerca del fenomenico la ricerca di un Dio che faccia il prestigiatore di un Dio che faccia spettacolo Dio non è spettacolo è la vita già di per sé è un spettacolo basta vedere il miracolo che in questo momento il mio cuore sta battendo dentro il mio petto senza che io mi debba sforzare di dire adesso batti adesso no adesso comprimiti adesso no sto respirando senza dover dire al mio colmone di aprirsi e di chiudersi ritmicamente sto pensando magari sto dicendo anche delle sciocchezze senza dovermi sforzare che il mio cervello elabori un pensiero è così bella questa vita è così piena già di cose straordinarie con il sole la terra questa temperatura l'aria perché noi viviamo in questo ambiente io sono appassionato di astronomia quindi anche il miracolo dell'universo poco fa il dottor Giorgio parlava della fisica subatomica quindi della meccanica quantistica e quant'altro cioè ci sono delle scoperte straordinarie e noi cerchiamo per forza un Dio che faccia con la bacchetta saltare i nostri ciletti siamo più sulla terra terra il fenomenico non fa parte della scrittualità la scrittualità è la vita è già un fenomeno la vita stessa di per sé con tutti i poteri porta un sentimento d'amore è un fenomeno straordinario perché una persona non mangia non beve non dorme perché il suo pensiero è rivolto a quell'oggetto del suo amore una persona che è veramente innamorata di Dio come i grandi santi non vivevano intanto che per Dio tutto quello che è un passato che ho sentito il suo gemma di cui io sono un appassionato estrematore che già tempo fa me l'ha fatto scoprire un mio amico e adesso non c'è più ecco questa santa questa ragazza perché è morta a 24 anni quindi era giovanissima una ragazzina che ha vissuto tutto quello che ha vissuto amando in modo fervoroso Gesù tanto che alla fine lei quando andava in chiesa non poteva sedersi ai primi banchi perché talmente era forte il calore del suo amore e il cuore saltava in gola non riusciva a respirare stava malissimo e gli si bruciano persino le sopracciglia quindi si doveva sedere in fondo alla chiesa sono dei fenomeni che gli accadono lei ma perché? per amore perché l'amore è la grande straordinarietà straordinarietà non il fenomeno dello spettacolarismo questo lasciamo le mani di me che ti durano noi siamo più seri noi apparteniamo alla chiesa grazie io non ho capito bene la differenza tra ossessione ossessione vessazione infestazione non è facile indicare le differenze ma comunque è nello schema classico un po' della traduzione dei maestri di vita spirituale insomma e quindi la possessione ha più aspetto visibile quello che si sentiva di Gemma Galgani l'ossessione invece è qualcosa di più interno che è paragonabile proprio alle fissazioni e qui credo che dobbiamo collegare con quello che diceva Giorgio che voi pensate un'ideologia che diventa che possiede un po' con l'intero pensiamo l'ideologia nazista no? è partito da qualcosa di interno non c'erano fenomeni visivi no? ecco la vessazione è più qualcosa di compulsivo che spinge a compiere atti disordinati e l'infestazione è quella che può colpire persone o luoghi con fenomeni fisici abbiamo provato no? cioè rumori strani oggetti che volano oppure a volte anche mali malessere mali fisici ecco e qui devo dire che quanto riguarda questo una delle preoccupazioni che mi capita spesso di incontrare è quando viene gente che tende a interpretare malattie mali malesseri o via insito la parola male no? come maleficio e io trovo che se noi non iniziamo a elaborare dall'interno un'energia spirituale per superarlo è un po' come nel campo medico non è forse detto che a pari malattia un malato che elabora energia interiore se la malattia è guaribile guarisce più rapidamente se non è guaribile la regge meglio no? e io trovo che sul piano della guarigione della malattia spirituale della formazione spirituale la vita spirituale si fa correre due pericoli uno è quella di aspettarsi sempre dall'esterno l'intervento risolutore quando deve avvenire attraverso un'elaborazione interna e poi spesso mi dico ma questo vuol dire privare anche i fedeli cristiani di una risorsa che solo il cristianesimo dà noi osiamo credere in un Dio che è amore crocifizzo che è il guaritore ferito che si è fatto piaga delle nostre piaghe perché delle sue piaghe noi fossimo guariti che non ha cancellato le piaghe nella sua risurrezione ma ha portato le nostre ferite i nostri traumi nella tridità certo rendendo le piaghe gloriude su un corpo risorto e sorgenti di grazia ma noi abbiamo la possibilità di elaborare il dolore come energia redentrice l'adimplio che dice un passione i cristi di Paolo è il grande tema della sanifici Dolores di Giovanni Paolo II allora qui per esemplificare proprio questo dico ma pensiamo a Teresa di Gema che è morta 24 anni Teresa con una tubercolosi devastante era un maleficio avrebbe dovuto chiamare un esorcista e l'ha vissuta insieme unita alla passione di Gesù sentendo che la sua sofferenza poteva assumere una potenza redentrice è stata proclamata patrona delle missioni alla stessa prego di San Francesco Saverio che si è estenuato per correre il mondo l'è inchiodata sul letto e poi anche questo voglio dire Giovanni Paolo II che ha scritto la San Vigilice Dolore ricordo che sentivo dire che quando ritornava dei viaggi apostolici quando la famiglia pontificia si fermava a vedere il filmato per vedere quale migliorie si potevano fare all'organizzazione si trattava di uno degli ultimi viaggi forse era quello in Mongolia ricordo anch'io che sbavava la televisione lo riprendeva in modo impietoso e diceva che i familiari mostrarono un certo imbarazzo lui lo si accorse e disse ma cosa credete e non vedo lo stato in cui sono conciato ma se il Signore mi chiede di offrire questo per la Chiesa chiedo solo la forza di continuare ad offrirlo l'alternativa sarebbe stata chiamare i migliori esorcisti del mondo per liberarlo da un maleficio non so se rendo l'idea con questo non è che noi siamo votati il dolorismo di offrire se stesso ma siccome dolore infermità e morte sono proprio inevitabili come dicevo perché prendono morrete tutti e forse anch'io il potere credere in una fede salvifica che trasforma la morte in vita il dolore in potenza di redenzione non è una grande risorsa che sarebbe che priveremmo coloro invece che aspettano solo una liberazione come guarigione fa più male se posso magari anche tutti e due credo che questo sarà uno dei temi che ci attraverserà nel mio prodotto di Pinerario cioè rispetto al tema della possessione prima parlavo della possessione frenda non l'aveva chiamata lucida lucida dove uno si consegna nella sua grande libertà è consegnato il demonio e dall'altra parte abbiamo invece tutta una serie di possessioni in parte si struttura su una forma di alleanza dove uno è alleato con il demonio e dall'altro invece vittima allora il caso della vittima dove uno è schiavo di una forza superiore che non è la storia dei santi perché i santi sono dei lottatori dove si guardano bene da rimanere vittima perché sanno che il Signore è superiore però per esempio io penso tutti gli esorcismi di Gesù nel Vangelo a che fare con delle vittime più che non una possessione lucida e allora questo aspetto cioè della possessione intesa come figura di vittima rispetto all'altra forma di possessione che è un'altra cosa ancora rispetto alle tentazioni tipiche delle storie dei santi ecco se cito una parola anche su questo perché su consegnarmi cioè liberare uno che decide di fare un patto col demonio in cui quando si converte decide di comprare il patto l'avete semplice ma quando uno vorrebbe anche liberarsi ma il demonio vuole stare con lui e qui è più difficile ecco il principio dove parto è questo cioè che l'avevo già detto in ogni caso se io non acconsento posso essere disturbato ma non sono coinvolto no? è la consentire alla tentazione è commettere il peccato quello che intacca l'organismo interiore e i santi siamo tutti dal momento del nostro battesimo tutti dobbiamo fare come Santa Gemma se non riusciamo a farlo domanderemo perdono e riprenderemo ma a tutti è dato di corrispondere allo Spirito Santo come il nostro sistema immunitario e lottare contro il maligno posso non resistere come Gesù e essere cedere alla tentazione di usare il potere di fare miracoli e trasformare il pane ma nella misura in cui mi raccordo domando perdono questo è la collusione o no con il maligno quanto il resto resta disturbo esterno che qualcuno può essere vittima ma la vera l'essere veramente vittima è quello di essere condivente con il maligno e intaccare l'organismo interiore secondo me appena la dignità dell'uomo alla libertà dell'io io davvero non sento contratti per ragione cioè quello di poter dire ma io non sono in balia in maniera inesorabile deterministica di forze esterne con l'aiuto di Dio anche dopo la devastazione posso riprendere Zaccheo può diventare santo l'innominato può diventare santo dopo essere stato un assassino per procura e il demonico era soprattutto lì a accettare di rapire Lucina ma la salvezza viene quando va da Cagliaro Federico e ridiventa un uomo un uomo allora io sono convinto che è su questo che noi dobbiamo di più ma chiaramente diventa formativo delle coscienze ma di tutti anche di noi io sento che il Papa Francesco sta sta proprio dicendoci questo ma sai dove è che sta forse lì perché nel nostro linguaggio nel nostro modo di pensare che parte poi anche dalla storia di Gesù da dove emerge il demonio è quasi mai in situazioni di conversione cioè perché è un uzzaccheo citato e non è che dice che era cosa del demonio allora siccome il linguaggio cioè la terminologia del demonio viene fuori solo in situazioni meglio di invasati situazioni di posseduti esplicitamente o che caccia molti demoni è collocato con tutto un altro target dove c'è la figura del demonio per esempio nel dibattito con gli scrivi fare in sé se porti di mia carta e tutto non viene fuori l'immagine del demonio nel linguaggio invece quel tipo di discorso che fai pure prendo anche a Papa Francesco il discorso della mondanità che dice che è la massima partecipazione del demonio però il Vangelo non utilizza quella terminologia ritracciandola esattamente in quello quindi non utilizzandola noi abbiamo l'immagine degli indemoniati che sono i posseduti e il demonio fa il lavoro grosso lì il resto fa il lavoro certeggiante tant'è che non lo chiami neanche demonio e allora noi siamo abituati a questo schema mentale e quindi tranquillamente conviviamo con questo chiamiamolo così peccato demonio soft e non ci fa grosso problema invece il demonio non ci fa problema è quello dove fa sono degli invasati delle fenomenologie sovranaturali o fenomenologie non controllabili diciamo è una forza demoniaca perché tu la trovi come non più controllabile della tua volontà questo è l'immaginario comune però procede effettivamente anche da un dizionario da un vocabolario che viene utilizzato rispetto al tema della conversione ad esempio il tema della conversione è centrato sulla volontà del soggetto ecco è raramente invece centrato sulla forza che è esterna che è quella del demoniaco e invece la forza del demoniaco tu la trovi dove sei considerato vittima non sei considerato invece responsabile senti ho detto in maniera grossomana intanto ripeto e dico che la morte di Gesù non fu provocata dai indemoniati di Gerasa dalle battone o dai pubblicani di Gerusalemme dagli uomini del Sinento e dagli uomini del Pretorio o abbiamo ammazzato Dio e poi dice bene il catechismo la chiesa cattolica la parola dice il male più grande che mai si è venuto sulla terra quando noi abbiamo ammazzato Dio in malo modo e più determinato dalle statule percorso percorso gli sputti della soldataglia e della plebaglia ma l'intervento in guanti bianchi degli uomini del Sinedro che non sono entrati nel Pretorio per non contaminarsi o di mangiare la Pasqua puri e avevano le mani insanguinate del sangue di Dio e dico questo il catechismo della casa cattolica dice il male più grande che mai si è venuto sulla terra ma quello fatto in maniera ancora più perte dagli uomini di potere Dio l'ha trasformato nel bene più grande che ci redime tutti ma è la potenza del suo amore allora su questa potenza anche Pai se si fosse pentito sarebbe stato salvato però dobbiamo dirlo che spesso il male più penetrante l'ha detto Baudelaire l'insidio più penetrante quella dentro per cui uno può sembrare anche l'ha detto qualche giorno fa Pai Pai uno che un corrottore che fa offerte alla chiesa ma che offerte fa e magari uno che è riconosciuto come meditato non so a me sembra che quello che lei dice a questa verità è vero che ci sono i posseduti veri e propri che però sono una percentuale minima riguardo a quelli che pensano di essere posseduti c'è la demonomania cioè vedere il demonio da tutte le parti la demonofobia aver paura che il demonio sia in tutto quello che è di negativo e che compare o la demonolatria proprio l'adorazione vera e propria del demonio come possono fare i rituali che fanno così perciò c'è da distinguere che anche qua c'è da distinguere una possessione che la possessione spirituale per quanto mio non è che esiste perché mi sembra non so se sto dicendo un'eresia o no ma mi sembra che il demonio l'anima non possa possedere cioè possedere contorno quello che si diceva prima messazione oppure quelle altre forme ma il vero e proprio il vero e proprio distingue questo la parte spirituale quando il demonio arriva e lei diceva una possessione soft la possessione soft è quella che ci offre il mondo il mondo al giorno d'oggi lei guardi la televisione guardi tutto e si rende conto che bene o male se uno aderisce a quello che dice la televisione a quello che dicono i vari i vari transgender e così che non è una cosa veramente che non legge che non sta in piedi e che è una possessione soft cioè ci lasciamo impossessare secondo la moda in una maniera che non è che ci sfugge che è una vera e propria possessione per toccare l'organismo interiore scusate io volevo chiedere un'altra cosa ho sentito prima della relazione del padre non c'è il termine così abbastanza velocemente la propria di fattura fattura esterna ora va bene abbiamo chi in mente le società elettive dei sciamani le elettive le bamboline quegli stili il ritmo brutto tutte queste cose no? beh beh noi viviamo in una società occidentale razionale eccetera e io volevo cercare di capire ecco il gioco di una fattura lanciata una maledizione lanciata nella nostra società cioè in questo senso se uno di noi è a conoscenza viene a sapere che una persona l'odia al punto tale da durare del male il fatto di essere consapevole da dolore fa soffrire ne volisce ci si sente fragili perché si argosso l'odio di qualcuno però e questo mi è comprensibile mi stavo chiedendo invece se c'è da parte di qualcuno un odio così forte che cerca di creare un'aura di maleficio diciamo intorno ad un altro e l'altro non è consapevole può essere in qualche modo raggiunto o per una forma per via non so paranormale telepatica subliminale insomma oppure può giocare proprio un ruolo anche spiritualmente di influenza maligna che in qualche modo può realizzarsi non so se mi sono spiegata ha fatto bene quella distinzione lì a metà a metà discorso cioè se uno o una viene a sapere che un altro gli ha fatto una una fattura è logico che il soggetto sente di essere fatturato cioè avrà dei disturbi avrà dei disturbi particolari che variano a seconda di quello che gli è stato fatto perché sa che gli è stato fatto qualcosa se invece non sa che gli è stato fatto qualcosa è un po' come è un po' come quando i tempi si tiravano le frecce su cento frecce che partono ne possono arrivare uno o due per caso possono arrivare per caso ma però quasi sempre poi si ha anche la Dio non ne so far niente se permette certe cose le permette le permette lui nel senso appunto che se una fattura fa effetto fa effetto perché ci sono delle circostanze che gli fanno fare effetto non una fattura in sé mi diceva un manco che distribuiva delle medagliette su cui stava tutta notte a crederci a bestemmiare per caricarle di male ma non so si caricava lui di male nemmeno quanto a me devo dire capita spesso c'è un po' una signora che ormai mi fa quando viene benedico l'acqua e l'ascolto che viene mi chiusa sempre ne che è la mia zia una povera donna di 80 anni che è la strega che mi fa il male e io dovrei un cazzo un tiro e la prima una volta che ho tentato di fare un criterio discernimento senta lei vuole che io creda che sia sua zia ma se la gente del suo paese inizia a dirmi che è lei io no ma allora vedete che anch'io devo essere cauto e prudente a far che credere perché insomma c'è stato un tempo che avevano bruciato povere donne fuori di testa ma che non lo avevo poi che ci sia queste influenze negative sì possiamo anche riconoscerlo però io torno ancora al principio ditemi se è giusto dovete arrabbiare che ancora una volta è un disturbo esterno che può disturbare intaccare ma non tocca al nostro organismo interiore l'ha detto Gesù che giovane l'uomo a guadagnare il mondo intero assumere il potere più totale vendendo anche l'alba il diavolo essere un uomo brillante avere successo e poi perde l'anima sua ecco e uno può anche essere colpito angariato morire 24 anni come Gemma ma l'anima la salva la priorità è questa poi sul fatto anche nel come sì io credo che molto dobbiamo verificare come verificare le psicose io ho imparato ad avere un grande rispetto delle psicose perché sono vere sofferenze però ho anche cercato di aiutare liberarle se volete ve lo dico con un'esperienza mia personale che mi ha aiutato molto io l'anno scorso ho fatto la cardioversione e dieci giorni dopo la cardioversione di notte alle tre e mezza cominciavo a sentire fitte che andavano dalla spalla al cuore dal cuore alla spalla e io mi sono fatto la persuasione che erano sintomi dell'infarto adesso io l'infarto non lo prendo perché lo prendo il comodino però il cuore è marconcio e allora mi dirò che ho fatto ora ho rallegrato il paradiso perché facevo delle gran preghiere in preparazione alla morte signore madri mi ha pregato tante volte ore e loro hanno messo questa l'ora poi quando ho fatto l'oltre ho segnato e accuratamente ho segnato alle ore tre e mezza diligentemente i medici sono andati a vedere il tracciato il tracciato che era buono allora ho capito che era di altro origine non lo so l'infiammazione al nervo però mi assicuro che tra vivere del male come infarto imminente e viverlo come un male fastidioso che mi lascia dormire ma non come infarto cambiato il corpo e quindi dico anche questo è un bel passaggio perché naturalmente si comincia a fare nelle psicosi si vede streghe anche nelle persone più varie insomma ecco è davvero un lavoro continuo di discernimento dare prendere su serio il problema del male ma stare attenti anche a non dare interpretazioni esorbitanti forbiate abbiamo concluso ora due cose uno faccio notare che noi siamo garantiti perché mi sembra proprio che sia il siglio questo è l'altra l'interessante questo termine proprio da un bel letto quando termino quando parte a lei io ho letto quando gli sti mi lavoravo a questo ministero in un libro di esorcisti se ci sono punti di uvorismo ci si trova bene allora la barzelletta del sacrista e dell'esorcista ho già contato tante volte ma vuole forse altre volte c'era un esorcista che lo ha affrontato demoni di quelli potenti e il sacristo moriva dalla voglia di partecipare il prete non ha mai voluto poi il bontà suo ogni giorno ha concetto però chiari chiari raccomandazioni primo non inzigare il diavolo secondo se lui inziga te o stucito o rispondi come rispondo io fatti vanno che trovano un po' seduto da un demonio tremendo che subito sale il prete e dice ma cosa credi di essere tu pretucolo credi di essere un santo per far paura al diavolo come me che il prete con punto sia non solo un santo ma con l'aiuto di Dio un po' alla volta spero di diventarlo e intanto tu lascia libera quest'anima e vattene via e poi il diavolo si guarda verso il sacrista e fai tu imbecille ma che lascia sono animati cosa credi di fare il sacrista con punto io non sono imbecille ma con l'aiuto di Dio la via dalla santità non è precluda bene è stato pomeriggio davvero ricco quindi ringraziamo innanzitutto padre Mario poi anche il dottor Gagliardi e Giovanni Ristuccia che hanno offerto un ottimo contributo ancora alla riflessione di oggi pomeriggio ringraziamo la comunità passionista c'è qui padre Felice e poi penso che abito qui a due metri e quindi bene una cosa solo ricordiamo alla fine di questa giornata anche i due eventi belli che hanno caratterizzato queste ultime settimane cioè le nascite di due bambini di Chiara Luce Donaddio figlia di Massimo e Alessia e di Simone Mussetta figlio di Marco e Chiara sono adesso Simone è tornato a casa ieri con con i genitori e Chiara Luce è tornata a casa oggi con a casa sua perché prima appunto era con con la nonna perché Alessia non era ancora completamente a posto comunque adesso la situazione si è normalizzata penso che sono tornati tutti a casa e stanno tutti bene ci rallegriamo per queste due nuove due nuove elezioni da di anno si l'appuntamento il prossimo appuntamento è il 15 di dicembre ho già girato il foglio per chi vuole partecipare ad Agognate ci sarà appunto sempre l'ossignor mattino poi pomeriggio Maria Beatrice Toro ci sarà appunto Grazie.